Buon pomeriggio, apro con piacere i lavori di quest'Officina Unicef. Permettetevi di ringraziare prima di tutto l'Istituto Superiore di Sanità nella persona di Angela Giusti per la profigua collaborazione che negli anni sta dimostrando quanto siano strategiche le alleanze, unico modo per lavorare in modo efficace per la piena realizzazione, anche nel nostro Paese, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ringrazio tutte le relatrici e relatori che si suspeguiranno trattando i vari aspetti del tema, accoglienza post-nascita e strategie di sostegno alle famiglie. Mettono oggi a nostra disposizione il loro bagaglio di esperienze e saperi. Come tutti e tutti sappiamo, la salute inizia a costruirsi già prima della gravidanza, prosegue durante lo sviluppo introdolino e nei primi anni di vita delle bambine e dei bambini. Oggi sappiamo ciò che succede in questa fase di sviluppo ha un'influenza potente e permanente per tutto il resto della vita e anche sulle generazioni successive, con rigatute e significative sulle famiglie, sulla comunità, sull'economia e sull'ambiente. Sappiamo quali siano le azioni che sostengono e rafforzano i genitori e le famiglie per garantire alle nuove generazioni la salute in tutti i sensi, il benessere fisico ma anche quello mentale. Il compito dei governi e delle comunità è creare le condizioni favorevoli affinché tutte le bambine e i bambini possano raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo, cioè ambienti che promuovano salute, nutrizione, protezione, sicurezza, cure responsive e opportunità di apprendimento precoce. L'Italia Unicef ha dato vita alle iniziative insieme con l'allattamento basate sui programmi Organizzazione Mondiale della Sanità Unicef e sulle azioni previste nei piani nazionali e regionali. E proprio nell'ambito di questo programma abbiamo voluto proporre una serie di incontri online incentrati sui passi per il benessere psicologico e per la qualità del percorso nascita. Ringrazio infine tutti i partecipanti, abbiamo ricevuto circa 600 iscrizioni e auguro a tutti e a tutti buon lavoro, scelta che questi saranno momenti formativi ed importante ripressione. Diamo ora la parola, buon pomeriggio a tutti, alla doctora Isangela Giusti. Grazie, grazie, buongiorno e buongiorno a tutti e a tutti. È veramente un piacere partecipare e contribuire a questa iniziativa. Sì, come è già stato ricordato, abbiamo questa proficua, avrei usato esattamente le stesse parole, proficua collaborazione con Unicef già da diversi anni, nata nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento, sostegno al piano nazionale e ai piani regionali della prevenzione e che poi ha avuto diversi sviluppi. Insomma, siamo occupati di un'importante progettazione che aveva come tema la transculturalità nel sostegno alle famiglie. Abbiamo fatto delle FAD che hanno visto oltre 35 mila partecipanti, quindi cose anche che hanno avuto dei numeri importanti e questo lo si è potuto fare soltanto perché abbiamo lavorato insieme. Ecco, credo che riuscire a unire le forze sia una delle cose anche doverose in questo periodo, però insomma delle cose che sicuramente garantiscono un successo in termini di raggiungimento delle persone, della cittadinanza e del personale. Un'altra delle collaborazioni sempre molto proficue è quella che stiamo facendo sulla nurturing care, sulla genitorialità e sulla paternità responsiva, sulla prevenzione della violenza maschile sulle donne, su bambini e bambini. Abbiamo anche un'altra collaborazione importante di lunga data sull'alimentazione infantile nelle emergenze. E non ultima la collaborazione che abbiamo avuto sul Covid durante l'emergenza e la partecipazione di UNICEF all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionale che ci hanno consentito di mantenere degli standard di appropriatezza nell'assistenza alla nascita insieme alle società scientifiche con cui all'epoca abbiamo fatto questo importante sforzo. E mi viene da dire che ci sono delle vecchie e delle nuove emergenze, adesso abbiamo le emergenze climatiche, insomma tutto quello che sta succedendo non vi tedio a raccontarvi quello che si vede già sui giornali che però chiamano anche nuove responsabilità. Io credo in questo senso, sono molto grata e riconoscente a UNICEF ma anche alle altre persone che vedo e con cui abbiamo queste collaborazioni perché credo che insieme siamo una risposta importante per adesso e per le occasioni che ci saranno in futuro. Grazie e buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie, grazie dottoressa. A me il compito di raccontare un po' il contesto nel quale ci troviamo oggi con questa officina UNICEF e come veniva ricordato dalla Presidente noi chiaramente lavoriamo in Italia avendo come quadro di riferimento la Convenzione Occhi e Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che è un po' il nostro paro. e lavoriamo, ringrazio appunto l'Angela Giussi per averlo ricordato, in costante partnership con le istituzioni e le associazioni appunto che operano nel nostro territorio. Con l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo appunto siglato un protocollo che ci fornisce il quadro di riferimento per diverse azioni che portiamo avanti. In Italia in particolare ci stiamo concentrando su quattro priorità per la parte advocacy, il tema della non discriminazione, il tema dell'educazione di qualità, dei cambiamenti climatici, della sostenibilità e poi il tema della salute mentale. Infatti questa officina l'abbiamo organizzata nell'ambito anche di questa priorità di intervento. e il Comitato ONU che monitora l'attuazione della Convenzione di tutti i paesi che l'hanno ratificata spiega bene come siano necessarie delle modifiche normative, delle politiche e delle prassi per appunto rispettare i diritti dei bambini e degli adolescenti, ma anche delle permanenti campagne e iniziative di sensibilizzazione, formazione e formazione. Quindi in questo quadro noi abbiamo quest'anno stabilito di portare avanti questo programma Officine Unice che vogliono essere appunto delle occasioni permanenti per un confronto, uno scambio, un arricchimento tra operatori e operatrici che a diverso titolo operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo nel rispetto dello spirito ma anche della lettera, della confezione stessa e quindi anche qui oggi avremo modo di ascoltare tante delle persone con le quali appunto collaboriamo in rete in modo permanente. E proprio perché nel ringraziare ancora tutte e tutti sia appunto i relatori, le realtrici, ma anche appunto i numerosi partecipanti, i numerosi partecipanti, do subito la parola al nostro moderatore e ben ritrovato. Grazie Laura, è con molto piacere che oggi mi trovo a moderare questa sessione che è soltanto una di quelle che immagino come Officina Unicef per la salute mentale come gruppo che si occupa dell'allattamento e lo progetteremo. Infatti quella di oggi è particolarmente dedicata e concentrata sul tema dell'accoglienza alla nascita a alcuni dei passi della Baby Friendly, fondamentalmente l'esperienza dell'ospedale amico del bambino e della comunità amica dei bambini. E su questo primo tema ci confronteremo oggi con persone che lo vivono da vari punti di vista ed è questo un altro grande motivo di interesse sia chi si occupa nella quotidianità, sia chi fa il ricercatore, sia chi lavora sul piano più anche di epidemiologia e anche del management in sanità alla fine. E questo mi sembra un elemento importante. Penso che ne avremo, e posso, credo, annunciarne un altro dedicato più all'accompagnamento alla nascita e alla situazione relativa all'esperienza del parto che merita un'attenzione dedicata e che non sarà quindi all'accento della nostra attenzione oggi. Oggi parleremo di più di una cosa che vediamo spesso contrapposta che è la salute mentale della mamma e il benessere del neonato. In realtà sono una coppia inscendibile, il benessere dell'uno è interconnesso fortemente con quello dell'altra e saremo aiutati già dall'inizio, da Livio Provenzi, a capire quali sono le forti interconnessioni che esistono appunto nella relazione mamma-bambino. relazioni che scopriamo sempre più potenti di quello che abbiamo sempre immaginato. Sono così potenti da modificare il nostro assetto neurologico, la nostra situazione somatica stessa. Quindi parliamo di qualcosa che abbiamo vissuto intuitivamente per molti anni e che la scienza oggi invece ci conferme in maniera forte. Comincio immediatamente con dargli la parola e dico di Livio Provenzi che è un ricercatore, uno psicologo, psicoterapeuta, un ricercatore presso l'Università di Pavia, la Fondazione Mondino, e si occupa appunto di sviluppo e di ricerca psicobiologica. Una delle piacchierate che abbiamo fatto con lui è che all'avanzare delle ricerche sarebbe interessante che corrispondesse anche e l'avanzare delle pratiche. E questo vedremo come sarà nostra responsabilità tutti quanti insieme, prendere le conseguenze anche delle cose che ci raccolterà. Livio, ai 20 minuti, ti ringrazio per la partecipazione e a te la parola. Grazie, grazie Leonardo. Grazie in generale al direttivo Unicef per l'invito condivido lo schermo. Ok, io vado per la presentazione. Perfetto. Di nuovo, grazie per l'invito. Cerco di stare nei tempi. Ovviamente, Leonardo, apri il microfono e dimmi se ne vado lungo, ma cerco di evitarlo. Mi inserisco proprio nel discorso che faceva Angela Giusti poco fa anche rispetto alle nuove sfide rispetto all'ambiente, ad esempio, perché vi racconterò, vi parlerò di genitorialità proprio come ambiente. Noi siamo abituati a pensare alla genitorialità come delle competenze a volte, promuovere le competenze. In realtà, pensare ai genitori come un ambiente di cura, di protezione, di promozione del benessere ci aiuta molto, forse, anche nel tradurre poi nelle pratiche, nella qualità delle pratiche, le ricerche che un po' vi racconterò tra poco. Mi piace partire da questo stralcio di una poesia di Elisabeth Bishop, tutta l'attività disordinata, continua, terribile, allegra, perché credo che racconti un po' quello che poi è il caos, sostanzialmente, che è presente nelle nostre relazioni, soprattutto nelle primissime relazioni, nei primi giorni, nei primi mesi, con i nostri bambini, perché ovviamente ci piacerebbe, e a volte ci raccontiamo con la ricerca, che tutto sia in qualche modo lineare, ma non lo è assolutamente. Questo è dovuto in particolare al fatto che noi siamo proprio nati per essere in connessione, noi siamo fatti di connessioni, di relazioni, ce lo dice la scienza, e tra poco lo vedremo, ma mi piaceva partire da questo luogo, che è il deserto bianco del Nuovo Messico, che è un luogo dove nel 2020 dei ricercatori hanno scoperto le impronte più antiche di esseri umani, e se zoomiamo su queste impronte, vediamo che sono impronte di adulti, ominidi in realtà, possiamo chiamarle ancora esseri umani, ma ominidi del prestocene che camminano con un bambino. Questo per me è stata una bellissima scoperta, perché vuol dire che davvero fa parte della nostra natura umana, quella di occuparci dei piccoli, in particolare dei più fragili, e questo sicuramente dà una dimensione ancora più importante al lavoro che facciamo, che fanno sia i genitori, sia noi che a diverso titolo ci occupiamo di infanzia, e di benessere di genitori e bambini. Prima vi dicevo queste interazioni precoci, queste connessioni precoci, sono molto complesse, a volte un po' disordinate, e potrei parlarvi per tanto tempo, ma non lo faccio, preferisco usare un video che vi faccio vedere. Il video è in inglese, ma si capisce abbastanza bene, dovrei aver condiviso anche l'audio, per cui credo lo sentiate, e dopo lo commento brevemente per arrivare alla parte successiva. Grazie a tutti, Grazie a tutti, Grazie a tutti, questo messaggio che il bambino interpreta in modo, diciamo, equivocabile, entrando in uno stato di disagio, avete visto come le connessioni sono complesse, ognuno all'interno della macchina è reagito in modo diverso, e soprattutto ognuno sta costruendo significati, e questo è il motivo per cui è importante che ci occupiamo di connessioni, e di connessioni precoci, perché dentro queste connessioni noi costruiamo i significati della nostra vita, chi siamo, chi sono gli altri, come stiamo insieme, come funzionano le cose e gli esseri umani. E dal punto di vista scientifico, tutto questo negli anni, diciamo nei decenni della tradizione della ricerca su genitori e bambini, abbiamo imparato a chiamarlo in tanti modi, su cui non vi tedierò, ma giusto per farvi vedere di nuovo quanto è complessa questa situazione, quando proviamo a osservarla, con questi diversi concetti, il rispecchiamento, la sintonizzazione, il matching, la sincronia, e più tardi vi parlerò un pochino di alcuni di questi aspetti. La genitorialità è qualcosa di complesso, qualcosa di così importante e complesso che è proprio un sistema, un ambiente di cui possiamo occuparci. All'interno di questo ambiente succede qualcosa che noi chiamiamo sincronia, chiamiamo connessione, e che si sviluppa proprio come prima anticipava il presidente, dalla gravidanza. Sappiamo che già durante la gravidanza la donna e il feto iniziano a regolare, a co-regolare, a sintonizzare i ritmi, ad esempio, del funzionamento fisiologico, del ritmo cardiaco, della respirazione, e questo prepara poi alla nascita ad avere interazioni come interazioni caratterizzate da imitazione. Qui vedete un esempio non nell'essere umano, ma nel neonato di macaco, succede lo stesso nel neonato umano, e noi siamo incredibilmente capaci di imitare un altro essere umano pochi minuti dopo la nascita, prima ancora di sapere che abbiamo un corpo, lo usiamo per entrare in connessione. Questo trovo sia qualcosa di speciale, veramente di incredibile, se ci fermiamo a pensarci. Poi ovviamente durante il primo anno, tre mesi, sei mesi, nove mesi, sviluppiamo modalità sempre più complesse di interagire. Qui vedete ad esempio quanto è facile e immediato per un bambino riconoscere che la mamma sia fermata, che ha interrotto la comunicazione, e questo bambino che ha tra i 10-12 mesi ci mostra molto chiaramente che sta facendo di tutto per cercare di riattivare quella connessione. Vedete? Indica che è un gesto molto speciale che noi facciamo come esseri umani, e ovviamente poi crescendo di nuovo a 12 mesi, e poi ancora nel secondo anno, tutto questo ci porta alla capacità di far finta, di fare giochi simbolici, di creare significati sempre più complessi che però, di nuovo, continuiamo a costruire all'interno delle connessioni precoci. È importante quindi capire che succede dentro queste connessioni e vi racconterò alcuni esempi, proprio come diceva Leonardo, cercando di mostrarvi come queste connessioni finiscono proprio sottopelle, cioè modificano il nostro funzionamento psicologico e psicobiologico da subito, dalla gravidanza ai primi anni di vita. La prima cosa vi racconto ha a che fare con la temperatura. Di solito noi proviamo la temperatura quando abbiamo la febbre, è ok. Ma in realtà, come ben sappiamo, la temperatura la regoliamo anche negli stati di stress, di disagio, di forti emozioni, positive o negative. Bene, in questo esperimento alcuni ricercatori hanno chiesto a bambini di 3-4 anni di giocare con un giocattolo a cui era stato detto a questi bambini che era il giocattolo preferito dello sperimentatore, in realtà era un oggetto fatto apposta per rompersi molto velocemente e hanno osservato come questi bambini rispondevano proprio a questo momento di imbarazzo, di aver giotto il gioco preferito dello sperimentatore aumentando proprio e regolando la temperatura della fronte e del naso in modo complementare. Se state pensando che alcuni ricercatori debbano essere messi, come dire, dal guia, avete ragione. Ogni tanto facciamo delle cosacce. una delle cose che noi stiamo facendo a Pavia è utilizzare proprio la termoregolazione ma non coi bambini proprio sull'interazione mamma-bambino. Cioè utilizziamo come vedete in queste immagini delle termocamere molto particolari che ci permettono di studiare come mamma e bambino che giocano insieme regolano la loro temperatura reciproca. E lo facciamo mentre mamma e bambino giocano normalmente oppure mentre chiediamo alla mamma di distrarsi utilizzando lo smartphone. Sappiamo quanto lo smartphone ormai abbiamo sempre in mano e spesso ci distrae e ci disconnette. Ebbene abbiamo osservato questi sono alcuni dati preliminari che ovviamente i bambini rispondono al momento in cui la mamma si distrae dal cellulare cambiando e modificando il proprio comportamento ma questo trascina con sé anche una specifica termoregolazione della fronte del naso che è proprio tipica dei momenti di stress o di fatica nel regolare uno stato interattivo che viene a rompersi a essere interrotto. Quindi vedete che il nostro corpo partecipa le nostre connessioni e se lo osserviamo con gli strumenti giusti possiamo capire che tipo di significati stiamo costruendo anche in un'età così precoce in cui i bambini banalmente non parlano e non possono raccontarci che sta succedendo. Una cosa ancora più incredibile a destra vedete un video del nostro laboratorio in cui stiamo studiando l'interazione tra cervello della mamma e del bambino con delle cuffie speciali delle cuffie G portatili senza fili che ci permettono proprio di osservare e studiare come il cervello di mamma e bambino o bambina si sincronizzano insieme mentre giocano mentre interagiscono a un'età molto precoce che è quella di nove mesi. È una procedura un po' complicata come vedete c'è da bardare e ingellare mamme e bambini ci vuole un pochino ma la cosa interessante che vedete a sinistra è uno studio che è stato fatto in Israele e ultimamente parliamo di Israele per altre questioni ma mi faceva piacere raccontarvi questo perché è una ricercatrice israeliana molto brava molto famosa che è la Ruth Feldman ha fatto uno studio pazzesco ha chiesto alle mamme di indossare una maglietta per due notti consecutive la maglietta è stata messa poi in un contenitore in un barattolo il giorno dopo sono andati in laboratorio hanno interagito col proprio bambino con la maglietta tra loro e il bambino vedete che è posizionata proprio qui gialla sul seggiolino e poi hanno chiesto anche un estraneo di interagire col bambino con in mezzo questa maglietta che quindi veicolava l'odore materno ebbene quando l'estraneo interagisce col bambino e c'è di mezzo la maglietta che odora che profuma dell'odore materno la connessione tra il cervello dell'estraneo e del bambino è assolutamente la stessa che c'è tra mamma e bambino questo di nuovo ci dice quanto è importante il corpo e addirittura alcuni aspetti del nostro corpo come l'odore a cui spesso noi non facciamo caso se non in metropolitana magari quando è un po' fastidioso ma di nuovo anche questo partecipa alle nostre connessioni precoci e ci aiuta a essere in connessione fin da subito senza consapevolezza senza linguaggio in un momento in cui i bimbi sono così piccoli e già entrano in connessione con noi non solo questo le nostre connessioni finiscono addirittura nel DNA dovete sapere che è stato scoperto ad esempio nei modelli animali qui vedete delle mamme di topo che stanno accudendo dei piccoli anche nel modello animale del topo ci sono delle mamme dei genitori diciamo che fanno questo comportamento di accudimento un pochino meno bene non sono particolarmente trascuranti ma semplicemente ci sono delle variazioni individuali nel modo in cui si prendono cura dei piccoli e queste variazioni nel comportamento materno si associano a variazioni nel funzionamento del DNA dei loro piccoli modificazioni che noi abbiamo imparato a chiamare modificazioni epigenetiche cioè che modificano il DNA dal di fuori dall'ambiente in questo caso dall'ambiente materno e negli ultimi anni abbiamo potuto scoprire come queste modificazioni che arrivano a cambiare proprio il modo in cui il nostro DNA funziona avvengono anche nel bambino nel modello umano abbiamo studiato ad esempio l'effetto del dolore neonatale della separazione precoce dai genitori nella terapia intensiva neonatale nel caso del bambino nato pretermine e abbiamo visto come tanto più questi bambini sono separati e vengono esposti a dolore neonatale tanto più il loro DNA risponde è come se imparasse questa esperienza prendesse delle note degli appunti all'interno del materiale genetico che a loro volta guidano e modificano lo sviluppo comportamentale e il benessere del bambino durante il primo anno di vita addirittura arrivando a influenzare la regolazione delle emozioni a quattro anni e mezzo ovviamente questo non vale solo per aspetti negativi o di stress ma vale anche per interventi protettivi qui vedete a destra un intervento che è stato fatto in Mangiagalli a Milano qualche anno fa in cui è stato proprio dimostrato che se noi prendiamo sul serio i bambini pretermine e favoriamo il contatto pelle-pelle queste modificazioni epigenetiche vengono addirittura ricompensate vengono modificate di nuovo e non c'è nessuna differenza tra l'assetto epigenetico di un nato a termine e di un nato pretermine che ha subito comunque interventi dolorosi in terapia intensiva di nuovo il potere delle connessioni genitore-bambino e di nuovo il corpo vedete il contatto pelle-pelle durante gli ultimi anni abbiamo vissuto anche il contesto pandemico che è stato un altro importante fonte di stress e di incertezza per le nostre connessioni anche in gravidanza c'è stato un periodo in cui ora forse ci dimentichiamo ma c'è stato un periodo in cui essere incinte durante la pandemia era fonte di grande ansia di preoccupazione abbiamo studiato l'effetto di questo stress sul benessere materno abbiamo visto che c'è stato un innalzamento dei livelli di ansia e depressione fino al 40% della popolazione della comunità diciamo normale di mamme che non aveva nessun tipo di fattore di rischio e di nuovo questo innalzamento dello stress genitoriale in questo caso legato alla pandemia si associava a modificazioni epigenetiche nel feto e nel bambino che poi a loro volta si associavano alla qualità dello sviluppo emozionale comportamentale e anche alla qualità dello sviluppo socio-cognitivo prima avete visto quel bambino che indicava che è un gesto importantissimo perché ci aiuta a capire i bambini anche in un momento in cui non possono ancora parlare ebbene i bambini di mamme con maggiori livelli di stress producevano questi segnali comunicativi in modo meno frequente quindi vedete che c'è sempre un apprendimento biologico che parte molto presto in gravidanza finisce nel corpo nel diannale bambino e poi noi ne vediamo alcuni degli effetti nel comportamento nello sviluppo cognitivo successivamente vi faccio vedere un esempio di queste interazioni vedete noi abbiamo studiato questo online perché in tempo di pandemia non potevamo incontrare direttamente le famiglie e vedete quando noi spegniamo diciamo la mamma in modo sperimentale i bambini si attivano e ci mosso questi comportamenti di comunicazione non verbale ciao oltre a rispondere indicherà anche e come vi dicevo queste gestualità questa comunicazione è ridotta nei casi in cui i bambini sono stati esposti ad elevati livelli di stress in gravidanza anche in questo caso vi racconto un effetto protettivo della genitorialità che è legato all'allattamento nello stesso campione che vi ho raccontato dello studio della pandemia le donne che hanno allattato in modo continuativo nei primi sei mesi in realtà non mostravano questo effetto sugli outcome negativi del bambino in particolare l'allattamento continuativo nei primi sei mesi è emerso essere protettivo rispetto ai problemi di sonno del bambino a 24 mesi qui lo vedete le donne che hanno allattato in modo continuativo sono rappresentate con queste onde arancioni vedete che non c'è un incremento rispetto invece a quanto succede nelle onde verdi che è l'allattamento discontinuo quindi di nuovo una forma di connessione perché l'allattamento è tante cose in realtà ma è anche una forma di connessione corporea che protegge lo sviluppo il benessere di mamma e l'allattamento allora vado a chiudere credo di avere ancora poco tempo abbiamo aperto con una poesia di Elisabeth Bishop chiudiamo con una poesia di Patrizia Cavalli che assume un po' in una brevissima frase alcune delle cose che ci siamo detti l'importanza delle connessioni e delle connessioni al tempo giusto al momento giusto che allora tanto volevo rassicurarvi la famiglia che abbiamo visto all'inizio ha scoperto ha fatto un altro video che ha messo su YouTube perché il papà è un influencer americano hanno rifatto lo stesso video è molto simpatico e qui scusate a proposito di resilienza il papà ha fatto Livio hai avuto un problema durante la proiezione del video ultimo sei senza attiva il microfono eccoci scusate ricondivido lo schermo eccoci dicevo vado a chiudere perché parlando di connessioni ovviamente come ci occupiamo poi di queste connessioni dal punto di vista della presa in carico della qualità di cura come diceva anche Leonardo poco fa noi siamo 8 miliardi sul pianeta anzi forse ora siamo anche di più eravamo 8 miliardi a partire dal novembre scorso dell'anno scorso vuol dire che noi abbiamo un numero che non so nemmeno dirvi di possibili connessioni tra tutti noi questo è il numero di permutazioni possibili è un numero enorme e se ci pensiamo a fronte di questo numero enorme di possibili connessioni che possiamo sviluppare la domanda che dobbiamo farci è se davvero non ci sia altro modo di questo io qui ho riportato anche in basso a destra un dato che ho trovato sul sito dell'Unicef un milione e quattro di bambini adolescenti in povertà in Italia perché poi noi spesso pensiamo che questo riguardi condizioni e posti al di fuori del nostro paese ma c'è tanto da fare per lavorare sulle connessioni precoci per promuovere il benessere anche proprio in Italia in alto vedete dei dati di Save the Children sulla povertà infantile e di nuovo ci sono diverse fonti di povertà infantile che riguardano anche il nostro paese e quindi vado a chiudere se tutto questo è vero se quello che vi ho raccontato è vero e quindi il nostro corpo partecipa alle connessioni lo fa da subito da molto presto durante lo sviluppo e queste connessioni ci finiscono nel corpo come le modificazioni epigenetiche senza che nemmeno noi dobbiamo occuparci ne semplicemente succede questo vuol dire che siamo vulnerabili che siamo per certi versi fragili cioè qualsiasi cosa succeda attorno a noi noi ne prendiamo traccia il nostro corpo se lo ricorda ci sono memorie corporee e allora il punto è partire da interventi di cura sviluppare una cultura della cura della presa in carico che parta proprio dalla fragilità e dalla riparazione dalla presa sul serio della fragilità un po' come vedete in questo video in questa pratica giapponese del kintsugi che forse conoscete in cui appunto gli oggetti rotti o le connessioni che si interrompono non vengono buttate ma vengono proprio riparate con l'oro che mantengono proprio una memoria diventano belle e funzionali in modo diverso proprio perché non dimenticano la storia che hanno di connessione che hanno avuto e a questo punto io chiudo ho tante persone ovviamente da ringraziare che hanno partecipato alle ricerche che vi ho raccontato se siete curiosi interessati a quello che vi ho raccontato potete anche connettervi anche voi con noi con questo QR code che vi porta alla nostra pagina del laboratorio e ringrazio di nuovo tutti Leonardo e il direttivo Unicef dell'officina Unicef per l'invito e chiudo ora con divisione grazie grazie Livio ci hai fatto venire credo molto appetito rispetto a quelli che sono gli approfondimenti di questa ricerca questo tuo finale mi fa pensare a un libro di cui ho sentito recentemente la recensione da parte della stessa autrice che è Silvia Decchini sui bambini che si rompono facilmente e che veramente ci fa pensare che oltre all'aspetto riparativo quello preventivo è fondamentale perché abbiamo appunto davanti degli scenari di stress per questi piccoli che veramente dovremmo risparmiarli insomma di stress e addirittura di sopravvivenza e questa dimensione quindi ti ringrazio ancora e speriamo di rivederci molto presto in queste altre occasioni e direi che passiamo testimone a Ilaria Lega che appunto in questo che collega i tre interventi di questa sessione iniziale ci porterà dei dati riguardanti proprio in che situazione in realtà la ricerca che è stata portata avanti in vari modi dall'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi anni ci dice qualcosa del benessere della mamma e del bambino e della mamma in particolare all'interno dei punti rascita Ilaria Lega è ricercatrice del reparto salute e donne ed età evolutiva del centro nazionale per la prevenzione delle malattie e della promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità il fatto che ci sia questa diciamo così specificità all'interno dell'istituto è un motivo di grande di grande soddisfazione e di grande speranza per tutti da anni nel senso che con questo tipo di centro noi possiamo veramente ho ricordi insomma di avere finalmente un interlocutore importante a livello istitutoriale dal prossimo tempo come ci ha ricordato Angela Giusti come ci ha ricordato Carmela Pace per le interconnessioni che ci possono essere ora un punto di vista anche epidemiologico su questo terreno per noi è fondamentale quindi Ilaria ti ringrazio per questa partecipazione ti passo molto volentieri la parola sono ricerca qui molti dei presenti hanno collaborato e quindi grazie grazie mille a tutti quanti e a te in particolare per riportarcene grazie grazie mille Leonardo grazie a Unicef per l'invito e adesso provo forse direttamente a condividere il mio schermo che così forse faccio meglio le vedete le diapositive sì perfetto dunque sono molto contenta di avere l'occasione di presentarvi i risultati di due indagini che appunto come diceva Leonardo abbiamo condotto recentemente in istituto sul tema della salute mentale per i Natale e queste indagini sono state parte di un progetto CCM che è stato finanziato dal Ministero della Salute proprio appunto nell'area della promozione della salute nei primi mille giorni di vita e vabbè Leonardo tu ringraziavi noi ma insomma siamo anche noi che ringraziamo te e tanti altri questo è stato un progetto insomma che è durato tre anni in mezzo al covid eccetera che però appunto ci è stato possibile portare avanti proprio grazie alla collaborazione con voi esperti e insomma anche l'unicef in particolare con Felice e dunque anche grazie alla presentazione precedente diciamo appunto questo tema delle connessioni fra la mamma e il bambino e comunque la mia è una presentazione che parte più insomma da una visione per così dire di sanità pubblica di appunto sistemi organizzativi l'OMS ha più riprese appunto ci ha ricordato come il supporto alla salute mentale materna in particolare quando parliamo di salute mentale per il Natale ci riferiamo alla salute mentale della donna durante la gravidanza nel primo anno dopo il parto sia tra le aree prioritarie su cui investire per migliorare lo sviluppo infantile precoce e perché si tratta di una priorità di sanità pubblica quindi da un lato la promozione e tutela della salute mentale però dall'altro anche l'individuazione precoce è un trattamento tempestivo dei disturbi mentali che compaiono in questo che si manifestano in questo periodo allora i disturbi mentali per i Natali sono frequenti ne soffre una donna su cinque addirittura una donna su due in gruppi ad altro rischio inoltre si tratta di disturbi che hanno delle caratteristiche specifiche in questa fase della vita della donna quindi hanno per esempio un esortio improvviso questo vale in particolare per alcuni disturbi mentali gravi che possono essere scatenati dal parto ma anche in questa fase della vita per tanti motivi fra i quali sicuramente diciamo non bisogna nascondere solo anche lo stigma le donne possono essere meno inclini a chiedere aiuto e inoltre diciamo che nel caso di disturbi gravi in particolare appunto nei mesi dopo il parto non sono purtroppo rari esiti drammatici come per esempio il suicidio che è fra le principali cause di morte materna ma nei paesi ad alto reddito fra i quali anche l'Italia e inoltre c'è un impatto diretto e immediato sul feto neonato sia su vasi biochimiche che psicologiche e ci sono poi ormai delle prove robuste di conseguenza a breve e lungo termine sia sulla salute della madre che del bambino e questo non ci sorprende in un'ottica appunto di primi mille giorni anche un impatto più ampio diciamo sulla società per la mamma abbiamo un aumentato rischio di malattie fisiche di mortalità ma anche appunto un aumentato ricorso ai servizi sanitari per il bambino in caso appunto di mamme che hanno questi disturbi vi è un aumentato rischio di nascita pretermine ma anche di mortalità un più basso tasso di vaccinazioni e più avanti in adolescenza possono comparire problemi emotivi cognitivi e dello sviluppo e scarse performance scolastiche quindi effettivamente diciamo si conferma che è un ambito di cui occuparsi che cosa abbiamo fatto in istituto abbiamo nell'ambito appunto di questo progetto CCM condotto due indagini proprio per individuare pratiche buone pratiche con riferimento appunto alla promozione e tutela della salute mentale prenatale una si è concentrata su una selezione di consultori familiari in aziende sanitari del nord centro e sud del paese e un'altra indagine invece si è concentrata sui propri servizi specialistici per la salute mentale questa è stata un'indagine nazionale che ha coinvolto i dipartimenti di salute mentale ci siamo rivolti ai professionisti sanitari quindi questo è un po' il tipo di dato che questi sono i risultati che vedrete allora un po' la nostra domanda era anzitutto capire in che misura e come i consultori familiari quindi parliamo appunto di servizi di primo livello del percorso nascita si occupano di promozione della salute mentale per i natali di prevenzione di riconoscimento di questi disturbi in tutte le donne e invece per quanto riguarda i servizi specialistici come questi servizi quindi a più elevata soglia o comunque maggiore specializzazione sono in grado poi di mettere a disposizione strumenti e percorsi che siano poi adatti al trattamento di disturbi mentali sicuramente più gravi che però diciamo compaiono in una fase anche specifica della vita della donna e un po' mettendo insieme questi elementi di capire se esiste una rete organizzata quindi per la presa in carico appunto delle donne che presentano questi sintomi questi disturbi appunto tra i vari livelli dell'assistenza l'obiettivo quello di individuare le cose che funzionano ma anche di trovare diciamo delle opportunità per il miglioramento e questo modello in qualche modo è quello che viene sempre proposto dall'OMS che proprio recentemente diciamo ha suggerito di collocare a livello dei servizi per la salute della donna e del bambino appunto le attività di promozione della salute mentale per i natale di prevenzione del disagio ma anche di riconoscimento dei disturbi e in qualche modo anche di supporto e intervento in quei casi diciamo un po' più lievi quindi che si prestano ad essere presi in carico a questo livello mentre invece i servizi specialistici insomma si occuperebbero quindi di una fascia anche di donne con sintomi più gravi ma insomma meno poi rappresentata come prevalenza naturalmente quello che noi sapevamo dalle nostre precedenti ricerche è che diciamo soprattutto nei casi più gravi dall'esito più drammatico effettivamente la continuità dell'assistenza un po' fra i vari livelli è nel nostro paese almeno era qualche anno fa un elemento critico non siamo i soli questa insomma è un'osservazione molto frequente però insomma in qualche modo questo queste indagini ci hanno dato modo un po' di approfondire queste in questo aspetto dicevo appunto che per i consultori è stata si è trattata di una selezione quindi abbiamo diciamo reclutato poco più di 140 serie di consultorio familiare il progetto era sulle buone pratiche quindi ci siamo concentrati su servizi che sapevamo essere particolarmente attivi e impegnati in questo tema anche in misura maggiore rispetto a quello che avviene appunto a livello nazionale e per questo abbiamo potuto usare i risultati appunto dell'indagine nazionale sui consultori familiari che è stata sempre coordinata dal nostro repatto e infatti vediamo che i risultati che vedrete si riferiscono a consultori che quasi sempre consegnano l'agenda cartella della gravidanza che nell'85% dei casi offrono visite domiciliari in puerperio quindi questi non sono diciamo rappresentativi di quello che accade in tutti i consultori italiani però diciamo testimoniano che quello che vediamo poi può essere attuato inoltre appunto si tratta anche di professionisti comunque formati in particolare sul tema della salute mentale per i natali ma anche dello sviluppo infantile precoce di colleghi che hanno proprio anche attivamente partecipato a progetti di ricerca su questo tema allora che cosa abbiamo osservato il riferimento che abbiamo adottato a linee guida internazionali perché non ne abbiamo di italiane quindi una cosa diciamo che è riconosciuta come molto importante è proprio la valutazione dello stato emotivo alla prima visita ma in generale nel corso della gravidanza in effetti questi servizi che hanno partecipato alla nostra indagine offrono questa valutazione nel 90% più spesso se ne occupa l'ostetrica la valutazione dello stato emotivo viene fatta anche nella maggior parte dei casi con strumenti che sono raccomandati quindi domande di vuli oppure di S diciamo si valuta soprattutto l'umore meno frequentemente l'ansia che invece anche questo sarebbe un elemento comunque da indagare di nuovo la raccolta diciamo di informazioni proprio anamnestiche rispetto alla presenza di un pregresso disturbo mentale o comunque anche della presenza di sintomi attuali anche questo è un elemento molto importante in questi consultori l'ostetrica se ne occupa sempre e vediamo che alla fine questa anamnesi non è difficile da fare e in questi consultori è possibile farla in maniera completa di fatto raccogliendo informazioni su pregressi diagnosi trattamenti farmacologici o di altro tipo pregressi o in corso e anche su una familiarità perché sappiamo che in questi disturbi la familiarità ha un ruolo importante ancora diciamo fanno parte di questa valutazione approfondita la raccolta di appunto elementi anche legati proprio alla gravidanza quindi fattori ostetrici fattori sociodemografici ed economici ancora fattori familiari questi vanno dalla gravidanza non desiderata pregresso aborto spontaneo la paura del parto è un elemento che sempre va indagato ma effettivamente nel contesto di una visita appunto durante la gravidanza forse questi elementi non sono neanche tanto insoliti da raccogliere almeno a livello di un servizio insomma multiprofessionale come è quello appunto come sono i consultori familiari e questi consultori quindi riescono effettivamente a fare una valutazione durante la gravidanza che risponde a quanto raccomandato appunto anche dal DAIS che in questo senso insomma è riferimento più autorevole non solo ma tutti questi elementi che vengono raccolti che corrispondono poi appunto molto spesso alla presenza di condizioni di rischio per esempio per quanto riguarda l'assenza appunto di supporto sociali oppure eventi di vita stressanti recenti una gravidanza non desiderata appunto la paura del parto per esempio ecco tutti questi elementi vengono poi tradotti in una valutazione proprio di rischio di depressione perinatale e quindi questi servizi sono poi in grado di offrire una serie di interventi alcuni che sarebbero quelli rivolti a tutte le donne quindi corsi di accompagnamento alla nascita oppure diciamo una qualche modo insomma una psicoeducazione così un po' più generale ma altri invece più specifici quindi anche addirittura in vari casi un supporto di tipo psicoterapico e ugualmente questi consultori riescono non sempre però insomma nella maggior parte dei casi a offrire anche in tempi rapidi una qualche forma di anche qui supporto psicoterapico alle donne che risultino affette da comunque un disturbo depressivo d'ansia e che non siano già in trattamento altrove quindi ripeto questi non sono dati rappresentativi della realtà nazionale però ci dicono che in effetti numerosi servizi consultoriali per quanto selezionati sono in grado di offrire questo tipo di attenzione e di intervento andiamo ai dipartimenti di salute mentale questa indagine ha avuto una rispondenza molto alta parere 94% rappresentative per tutte le aree del paese ecco qui forse sono più numerose le criticità sarebbe molto importante se si ha cognizione della presenza di un disturbo mentale soprattutto se grave offrire un counseling progettionale alla donna che addirittura il NICE ci dice dovrebbe essere ripetuto ogni anno ecco questo non è offerto dal 40% dei dipartimenti di salute mentale questo proprio per le conseguenze che abbiamo visto dei disturbi mentali per i natali che oggettivamente insomma sono ormai riconosciute non è un counseling sempre facile da fare sia per la mamma il impatto sulla sua salute su quella del bambino e purtroppo nessun potremmo dire quasi dipartimento 95% non dispone di materiale informativo a questo scopo quindi su questo si può certamente migliorare ancora la prescrizione psicofarbacologica rivolta alle donne in età riproduttiva comunque può essere delicata nel caso di alcuni disturbi e sicuramente è complessa la gestione di una psicofarmacoterapia diciamo per un disturbo importante durante la gravidanza e l'allattamento vediamo che né c'è l'individuazione di un documento di riferimento univoco a livello dei dipartimenti di salute mentale non ce l'hanno quasi il 90% e neppure i dipartimenti sono dotati di un'equipe di un professionista questo vale sia all'interno che anche all'esterno tramite reti per esempio con servizi specialistici proprio di farmacoterapia che in alcuni territori sono presenti ecco questo non c'è anche qui in quasi il 54% dei dipartimenti quindi anche qui diciamo si può certamente fare meglio e i tempi di attesa proprio per le conseguenze che abbiamo visto dei strumenti per i natali devono essere brevi se c'è il sospetto di un disturbo mentale una donna appunto che è in gravidanza o comunque nei primi mesi dopo il parto in effetti su questo diciamo i dipartimenti sono in grado di garantire un accesso nella maggior parte dei casi dentro due settimane come previsto anche se ecco non va tanto vediamo ho studiato delle differenze fra nord e sud non va tanto bene questa risposta dipende dal motivo della richiesta dalle condizioni cliniche ecco perché dovrebbe esservi proprio la consapevolezza diffusa che è la condizione per i natali in sé a rappresentare un motivo di urgenza e appunto per far fronte al problema anche dello stigma bisognerebbe creare un pochino dei setting in qualche modo dedicati sia proprio come competenze ma anche come luogo e in questo caso diciamo non hanno questo tipo di possibilità oltre il 70% dei dipartimenti sono previsti però anche altri modelli per esempio che sia lo specialista a spostarsi ecco anche questo non è un modello tanto diciamo diffuso però neanche del tutto assente siamo al 26% dei dipartimenti che prevede questa possibilità ecco non so se sono riuscita insomma a rendere un po' l'idea però in qualche modo diciamo tutti questi passaggi sono abbastanza complicati ed è molto complicato anche tenerli a mente nell'ambito di servizi che si occupano per la maggior parte dei casi di altro cioè questo vale per i servizi del percorso nascita per cui per i quali insomma la maggior parte delle donne fortunatamente sono quelle che stanno bene ma anche per i servizi di salute mentale dove magari diciamo la popolazione delle donne con disturbi gravi che in effetti affrontano una gravidanza hanno un figlio così sono una minoranza quindi diciamo che è un po' difficile tenere a mente e far bene tutti questi passaggi senza che ci sia anche un protocollo almeno insomma un PDTA e in effetti ecco non ce l'hanno quasi l'80% delle aziende sanitarie quindi c'è molto da fare sicuramente secondo noi lasciano ben sperare questi dati sui consultori familiari che noi crediamo anche in linea col modello dell'OMS siano proprio i servizi sui quali è necessario spingere per migliorare l'offerta disponibile a tutte le donne o comunque con le donne insomma con sintomi più lievi e a livello dei dipartimenti ecco c'è davvero tanto da fare per rafforzare le competenze specialistiche non ho mostrato tanto di questi dati però diciamo che il sud appare particolarmente penalizzato sicuramente c'è da lavorare per promuovere la continuità della presa in carico quindi non si tratta di un problema superato una linea guida sulla salute mentale per il Natale specifica per il contesto italiano che per fortuna può basarsi sui consultori e che sono una specificità italiana effettivamente potrebbe aiutare questo in quanto riguarda diciamo un po' l'approccio di salute pubblica di salute pubblica da un punto di vista di ricerca è quello che stiamo cercando di fare anche sperimentare un po' nuove approcci anche nuove reti perché diciamo ovviamente quello che coinvolge la sanità pubblica insomma tante volte anche un po' a prescindere dal nostro controllo possibilità di azione immediata ecco a volte trovare dei modelli alternativi come quello che abbiamo messo in campo con successo in questo progetto music and motherhood condotto con l'organizzazione mondiale di sanità che si è appena concluso che ha funzionato molto bene può essere una strada quindi trovare anche risorse per esempio nel terzo settore come è stato in questo caso con appunto dei musicisti che possano in qualche modo anche affiancarsi ad altri percorsi insomma che già conosciamo grazie mille invece Ilaria due considerazioni molto veloci certo che appunto questi ultimi tuoi richiami a un approccio universalistico permetterebbero un'attenzione in generale maggiore per il benessere di tutte le mamme nel quale anche le mamme più fragili o quelle che sono esposte per un particolare periodo a situazioni e fasi di vulnerabilità potrebbero trovare l'attenzione richiesta e questo mi sembra uno dei punti importanti che hai sottolineato e l'altro ahimè riguarda invece la grande debolezza dei servizi di salute mentale in generale e per fortuna che la ricerca che ci hai presentato riguarda invece un campione significativo a differenza di quello dei consultori che ha un evidente bias di selezione quindi voglio dire ci mostra che il modello è possibile ma non che appunto alle donne italiane è offerto purtroppo quello che a tutte avrebbero diritto ad avere mi sembrano degli elementi molto interessanti soprattutto laddove hai segnalato che appunto questa catena questi nodi consecutivi del percorso che fa una donna da quando dal preconcezionale addirittura fino alla nascita del bambino e dopo purtroppo subisce in molti territori delle interruzioni e delle discontinuità che fanno anche di situazioni non difficilissime le possono fare diventare ingravescenti e più pesanti di quello di quello che sarebbero se fossero intercettati invece precocemente quindi ti ringrazio ti ringrazio molto e sei stata nei tempi adesso possiamo passare la parola a Gina ancora e che come come dire ringrazio tantissimo per questa per aver accettato il nostro il nostro invito Gina ancora è responsabile del reparto di neonatologia degli ospedali di Rimini e del dipartimento di pediatria di Rimini ed è stata anche presidente della società italiana di neonatologia e voglio ricordare che è molto attiva in questo diciamo continuo promuovere l'attenzione alla care all'interno del reparto di neonatologia ed è la protagonista di un appuntamento che ormai è raggiunto quest'anno il decimo incontro della famiglia nella terapia intensiva neonatale che si tiene annualmente a Rimini e chiedo a Gina di prendere il filo di quello che ha detto Livia e di quello che ci ha raccontato Ilaria perché poi quello che succede è quello che succede nella cogiglianità e che vedi tu tutti i giorni e questo questo tema appunto di questa coppia mamma bambino che si informa nel tempo e che arriva nel breve momento del ricovero dell'ospedale più o meno lungo se è in terapia intensiva neonatale più breve nei reparti nei centri nascita che cosa succede che cosa dovrebbe succedere che cosa in realtà ci richiami ad attenzionare grazie 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 a voi veramente un onore essere essere qua allora sì sono stata sicuramente agevolata dalle presentazioni precedenti dalla introduzione di Livio allora questo un po' è se si vede il titolo della presentazione accoglienza alla nascita e benessere madre bambino bambina un'accoglienza alla nascita che favorisca il benessere di madre e bambino bambina ma anche poi della coppia del papà con il proprio bambino bambina è sicuramente la zero separation ormai abbiamo veramente una mole di studi che ci dicono questo e quindi pensavo di ripercorrere siano voi il paradigma alla base della zero separation e poi la zero separation come diceva Leo nel neonato termine e nel neonato pretermine allora per quello che riguarda il paradigma alla base della zero separation volevo richiamarmi a considerazioni etologiche noi siamo dei mammiferi cioè apparteniamo a quella specie che partorisce i cuccioli e gli allatta e i mammiferi hanno quattro distinte modalità di cura dei propri cuccioli sono quelle specie che partoriscono dei cuccioli maturi in grado di seguire la madre in pochi minuti per cui questi si alimentano spesso quando ne hanno il bisogno per cui il latte della loro mamma è povero di lipidi e proteine questa è la follow care poi ci sono delle specie che sempre partoriscono dei cuccioli maturi ma li nascondono per poterli proteggere dei predatori e li vanno a visitare poco proprio per non farli riconoscere dei predatori anche il loro latte è ricco di lipidi e proteine perché li allattano due o tre volte al giorno e questa è la hidden care o chiamata cash care poi ci sono delle specie che partoriscono dei cuccioli meno maturi che non riescono a termoregalarsi da soli per cui le madri costruiscono dei nidi per stare al caldo le madri possono essere cacciatrici per cui alimentano i propri cuccioli circa ogni quattro ore e il loro latte è un po' meno ricco di lipidi e proteine a me è sempre un latte calorico e infine scusate abbiamo i primati i primati che hanno acquisito la stazione retta quindi hanno liberato le braccia partoriscono dei cuccioli immaturi che hanno bisogno del contatto col corpo della mamma per stare al caldo e della nutrizione frequente e queste specie di mammiferi praticano la care e care l'uomo è chiaramente la piramide dei primati è una specie che pratica proprio la care e care il neonato il cucciolo d'uomo è estremamente immaturo il cervello pesa circa il 25% di quello degli adulti ed è la percentuale più bassa tra i mammiferi il cui cervello dei cuccioli pesa di solito il 50-70% di quello che poi peserà da adulti questo è un grafico classificato tra i dieci minori grafici di Nature del 2022 che ci mostra lo sviluppo del cervello proprio dal momento del concepimento fino alla fase finale della vita e vediamo proprio che se consideriamo questa linea salmone e grigia qui che rappresenta il volume totale del cervello vediamo come al momento della nascita appunto si ha il 25% del volume che raggiungerà alla fine della prima infanzia dopo di che appunto questo volume comincia a calare ora questo cervello per fare questo rapidissimo sviluppo ha bisogno di cicli di sonno di circa un'ora che è il tempo che dura nel sangue il lattosio fornito dal latte materno che è povero di lipidi e proteine e quindi ha bisogno di una alimentazione frequente la carry care e pertanto anche per il cucciolo d'uomo una care no separation con sonno e alimentazione che si alternano inizialmente a intervalli di circa un'ora e questo tipo di care si è evoluto nella nostra specie nell'arco veramente di moltissimo tempo da che eravamo cacciatori raccoglitori a che siamo diventati agricoltori il cucciolo era sempre il dannionato trasportato a contatto con il corpo della mamma dopodiché negli ultimi cento anni la nascita in ospedale ha portato a medicalizzare un evento fisiologico appunto quello della nascita per cui è accaduto che è stata iniziata questa pratica di lavare subito il neonato appena nato di vestirlo di metterlo in una culla spesso in una stanza lontano da quello della mamma il famoso nido che resiste ancora nell'immaginario tante volte si vede nel film ancora questi neonati messi tutti in fila nei nidi per cui siamo passati da una carry care ad una nest care quindi ad un accudimento che è tipico di altre specie quelle che fanno la nest care o la hidden care quando il neonato viene separato addirittura dalla stanza della mamma e alimentato con un latte di una specie di una follow care ora tutto questo può avere un impatto può spiegare anche tutto quel disagio che si trova sia nel mondo infantile ma anche nel mondo degli adulti dei genitori è molto possibile volevo mostrarvi questo circuito molto molto importante che si determina al momento della nascita e al momento della nascita che è un circuito cerebrale viene attivata una parte del cervello che è l'amigdala una parte profonda che è quella zona del cervello che ha il compito di stabilire se l'ambiente esterno è un ambiente sicuro o meno e di conseguenza regolare il comportamento ora al momento della nascita la noradrenalina che è lo stress buono che ci permette di adattarci all'ambiente extrauterino stimola il bulbo olfattorio il bulbo olfattorio ha una connessione stabile con l'amigdala nel momento in cui l'amigdala viene stimolato dal bulbo olfattorio attivato dalla noradrenalina si riceve anche l'odore materno stabilisce un circuito con la corteccia prefrontale che è il nostro cervello sociale quella parte che ci dà un orientamento verso il mondo se l'amigdala attivata dal bulbo olfattorio non riceve in contemporanea l'odore materno si determina invece un evitamento e questo circuito l'esistenza di questo circuito oppure la sua assenza è stato dimostrato proprio da studi di risonanza magnetica funzionali da studi di elettroencefalografia pertanto se il neonato si trova al momento della nascita in un ambiente sicuro che vuol dire sono a contatto con il corpo materno ricevo il suo calore ricevo il suo odore che conosco già in utero dal liquido amniotico sento la sua voce si crea questo circuito per cui quello che si determina è un atteggiamento di fiducia nell'ambiente esterno un atteggiamento approcciante con ricerca del legame e quello che l'organismo può fare è quello di svilupparsi e prosperare e quindi ottenere poi anche nella vita adulta dei risultati che siano accademici lavorativi sociali soddisfacenti in questo tipo di contesto di ambiente sicuro l'ormone che maggiormente è presente è la ossitocina se in questo momento molto sensibile che è quello della nascita si rileva invece la migda rileva un ambiente sicuro che vuol dire assenza dell'odore materno assenza della sua voce assenza del contatto con il suo corpo questo tipo di circuito non si crea e ripeto sono studi di risonanza che lo hanno anche dimostrato questo fa sì che si crei un atteggiamento di sfiducia nell'ambiente esterno un atteggiamento evitante rispetto ai legami con modalità di attacco-fuga che si attivano ogni volta che ci si trovi di fronte ad una nuova sfida ad un evento critico in questi contesti la priorità non è prosperare ma riprodursi e qua sono interessanti anche gli studi che hanno mostrato una maggiore incidenza di gravidanza nelle minorenni che hanno vissuto nella loro infanzia condizioni di stress tossico l'ormone che maggiormente circola in queste circostanze è il cortisolo e tutto quello che viviamo in questo momento sensibile a che fare poi come noi in futuro affrontiamo eventi critici come diventiamo a nostra volta dei genitori e gli eventi di cronaca di questi giorni un po' qualcosa rispetto a questo ci dicono quindi vediamo come poter attuare questa zero separation nel neonato a termine e nel neonato a pretermine quindi per quello che riguarda la nascita in ospedale che è un tipo di nascita che è in grado in qualche maniera anche di coniugare la sicurezza con la la fisiologia vediamo come rimanere aderenti al nostro modello evolutivo e due sono interventi veramente a basso costo ma molto potenti per favorire lo sviluppo uno è lo skin to skin immediatamente dopo il parto sorvegliato e prolungato per almeno un'ora anche nel taglio cesareo e due è la assistenza del neonato in stanza con la mamma per quello che riguarda lo skin to skin precoce va detto che il neonato durante i primi 60-90 minuti di vita è vigile reattivo è particolarmente attrattivo tanti studi hanno valutato quello che è il comportamento della mamma e del bambino in questa fase e lui è idealmente programmato per incontrare per la prima volta i suoi genitori questo è il classico studio di Winstrom e collaboratori che hanno avuto bisogno della autorizzazione di un comitato etico per non separare il neonato dalle mamme comunque i neonati lasciati indisturbati contatto pelle e pelle si è visto che avevano bisogno di circa 10 minuti per il contatto occhio capezzolo 30 minuti per il contatto visivo con la mamma e solo dopo che ha riconosciuto la mamma che ha stabilito una relazione anche visiva con la mamma un'ora per attaccarsi al seno autonomamente quindi il neonato si è lasciato sul corpo della mamma sul suo ambiente atteso è perfettamente autonomo e in grado di sopravvivere su questo corpo che il contatto pelle e pelle precoce prolungato indisturbato abbia effetti positivi lo hanno dimostrato diversi studi questa è una Cochrane pubblicata nel 2017 che raccoglie 38 studi che dimostrano come lo skin to skin precoce migliori la stabilità cardiorespiratoria livelli di glicemia e determini una maggiore quota di allattamento al seno aumenti nel neonato i livelli di ossitocina che a sua volta stimola il nucleo motorio del vago con rilascio di tanti ormoni gastrointestinali tra cui insulina colexispochinina gastrina che stimolano la crescita dei livelli intestinali l'assorbimento e la nutrizione e la crescita del neonato ma ci sono appunto anche effetti sulla mamma innanzitutto l'aumentato rilascio di ossitocina con ridotta incidenza di emorragia del postparto più forte attaccamento mamma-bambino ridotta incidenza di depressione postpartum minore cortisolo salivare minore stress materni e migliore soddisfazione riguardo al ricovero ospedaliero questo più forte attaccamento mamma-bambino vuol dire che la mamma è più facilmente in grado di riconoscere i segnali del proprio bambino e di rispondervi in maniera sensibile si è visto poi che le mamme che fanno lo skin to skin precoce a tre mesi baciano e accarezzano di più il proprio bambino un anno ci parlano più vivacemente e anche lì lo tengono più in braccio e questo migliore attaccamento determina anche una maggiore sensibilità materna maggiori volumi a livello della sostanza grigia profonda cerebrale questo è quello che ci hanno dimostrato dimostrato studi di risonanza magnetica quindi la relazione l'attaccamento non è pura poesia filosofia ma è una base importante per gli uomini e le donne del futuro evidenze suggeriscono che molte di queste interazioni precoce avvengano anche tra il papà e il bambino appena nato ad esempio è stato dimostrato che se i papà hanno la possibilità di stare da soli con i loro neonati tendono a trascorrere quasi la stessa quantità di tempo delle mamme nel tenere in braccio a toccare e guardare il proprio bambino e che l'aumento dei livelli di ossitocina si verifica anche nei papà durante il contatto per le pelle è importante promuovere lo skin to skin anche dopo taglio cesario quello che ci viene raccomandato anche dall'organizzazione mondiale della sanità e lo skin to skin dopo il cesario lettivo si può fare in sala operatoria con la mamma o se la mamma non se la sente lo si può fare anche con il partner della mamma l'altro l'altra modalità organizzativa per promuovere la zero separation è il rooming in durante l'adegenza dopo la nascita in ospedale passo numero 7 appunto dell'MS Unicef per il sostegno all'allattamento quindi il bambino che sta in stanza con la sua mamma e ci sono tanti studi che hanno documentato la positiva associazione tra il rooming in e l'allattamento al seno è interessante che questi studi che sono tutto recenti provengano da diverse zone geografiche a livello mondiale ad esempio Israele il Messico questo è cinese l'ultimo è uno studio italiano e anche questo è interessante perché è andato anche a fare una survey sulle mamme a rooming in chiedendo loro se avessero avuto delle difficoltà nel praticare il rooming in vedete che una su tre dichiara di aver avuto delle difficoltà collegate fondamentalmente alla stanchezza alla discomfort nel muoversi dopo un taglio cesareo al dolore e quando veniva chiesto loro quali strategie suggerireste per migliorare questa esperienza al primo cioè una delle strategie importanti è la presenza di un membro della famiglia una persona cara durante la notte oppure un'aumentata assistenza alle mamme pertanto per quello che riguarda il rooming in non è soltanto il se farlo che sicuramente è una vicinanza importante ma anche il come farlo quindi come garantire supporto e sicurezza in rooming in e in questo senso è importante riconoscere ed accogliere il bisogno di supporto della mamma in rooming in favorendo la presenza del partner o persona cara scelta dalla donna e personale preparato e disponibile all'assistenza in stanza ricordiamo che dopo il covid questo primo aspetto è venuto meno e ancora in tante realtà non è stato ripristinato del tutto e un altro aspetto è fornire alla famiglia ai genitori un'informazione strutturata sin dalla gravidanza sulla protezione del neonato dal rischio di sudden unexpected postnatal collapse dal rischio di cadute e dal rischio di SIDS vediamo poi nel neonato pretermine zero separation e neonato pretermine concetto non del tutto scontato qui è importante partire da un presupposto che il neonato pretermine non è per necessità un neonato malato ma un neonato immaturo e il suo problema principale è la precoce separazione e la perdita di simbiosi con il corpo materno quindi qualsiasi cura non può reiterare la causa di questa condizione quindi è indispensabile attuare percorsi di cura che eliminino il principale fattore ezio patogenetico della prematurità che è la separazione e anche quando ci siano delle patologie la loro cura non deve alterare la rapida crescita del cervello neonatale il neonato è un paziente unico che ha una fase di sviluppo così rapido come mai si determina nel resto della vita guardiamo semplicemente come cambia il cervello da 25 settimane a termine in termini di volume di connessione in superficie quindi ancora una volta zero separation anche nel neonato pretermine è importante nel neonato pretermine quindi fare la zero separation per supportare lo sviluppo e quindi è importante fare una cura in collaborazione con la famiglia con accesso della famiglia in reparto H24 sette giorni su sette con spazi pensati per la loro accoglienza e non soltanto per il neonato che presenza dei genitori che sia accompagnata quindi i genitori devono essere accolti accompagnati e coinvolti nel percorso di cura dei loro bambini percorsi di cura che devono essere basati sulla fase di sviluppo del neonato perché assiste al neonato di 25 settimane non è come assistere 30 32 35 e così via nel fare questo ci vengono in aiuto questi standard assistenziali europei per la salute del neonato che hanno la potenza di essere stati iscritti insieme da professionisti e da rappresentanti di genitori da più di 30 paesi a livello europeo c'è stata una raccolta di di dati scientifici su 11 macro argomenti uno di queste sono le cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia in cui viene riportato perché mantenere aperte le terapie intensive H24 le famiglie e mettere in loro disposizione strutture dove stare insieme al proprio neonato e sono riportate motivazioni scientifiche etiche e legali quelle scientifiche abbiamo detto più volte riguardano il fatto che la separazione precoce è dannosa perché sconvolge il legame biologico ed emotivo che si è sviluppato durante la gestazione e costituisce un fattore di stress che interferisce con l'allattamento al seno quindi con tutti gli effetti positivi sulla salute fisica e mentale che l'allattamento al seno comporta e altera la relazione dei legami di attaccamento che abbiamo visto tanto importante anche per lo sviluppo proprio anatomico a livello cerebrale quindi il coinvolgimento dei genitori in teen rappresenta un intervento a basso costo e di alta qualità a supporto della salute dei neonati e dei genitori i benefici a breve termine sono tanti migliora il legame genitore neonato l'allattamento al seno riduce la morbidità polmonare migliora la nutrizione riduce lo stress neonatale migliora la stabilità neurocomportamentale e riduce il tempo di permanenza in teen e a lungo termine migliora l'interazione genitore-bambino dopo la dimissione riduce i tassi di ammissione quindi i costi di ospedalizzazione e migliora la salute mentale dei genitori vi sono poi anche delle questioni etiche per cui non separare i bambini dai propri genitori né i bambini sani al momento della nascita né i bambini pretermine e questo è la questione etica è proprio l'elevato valore etico e spirituale che la vicinanza ai propri genitori ha per un sano sviluppo umano e allo stesso modo è etico per i professionisti non solo usare le migliori tecnologie e i migliori farmaci ma ridurre la sofferenza della separazione per noi è un imperativo morale e poi c'è anche un contesto legale la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ci dice che il bambino ha il diritto dalla nascita ad essere accudito dai suoi genitori e che è importante che non venga separato dai suoi genitori i stati membri questo lo devono assicurare e c'è poi l'associazione europea per i bambini in ospedale che dice che un bambino ospedalizzato ha il diritto di avere accanto entrambi i genitori giorno e notte qualsiasi sia la sua età e la sua condizione medica allora se questo è vero per il bambino la domanda che viene da porsi ma il neonato è un bambino visto che viene separato sia che sia fisiologico sia che sia prematuro e da che età consideriamo il neonato una persona queste non sono domande retoriche perché se lo fossero non avremmo ancora tanta tanto ostacolo alla presenza dei genitori accanto ai propri bambini sia fisiologici che non quindi per concludere il travaglio il parto ed i giorni che seguono possono essere correttamente definiti come periodo sensibile e la qualità delle cure che la mamma e probabilmente il papà ricevono e rivolgono al proprio bambino durante tale periodo sensibile influenze in maniera determinante il loro comportamento come futuri genitori ma anche proprio come in generale come esseri umani per concludere nel neonato termine la separazione mamma-bambino nelle prime fasi della vita non è attesa dal punto di vista evolutivo ed è in grado in periodi sensibili di alterare le traiettorie di sviluppo della persona nella nascita in ospedale pertanto è necessario evitare la separazione attraverso skin to skin precoce e roaming in entrambi adeguatamente protocollati garantendo alla donna il supporto in primis da parte di una persona cara e poi di professionisti preparati con l'attenzione alla sicurezza nel neonato pretermine invece il principale problema è la perdita del rapporto simbiotico con la madre una cura completa deve includere il ripristino di questo rapporto includendo tutta la famiglia nel percorso di cura e durante la cura in teen quindi oltre a impiegare farmaci e tecnologie avanzate è cruciale salvaguardare e favorire lo sviluppo cerebrale che è fortemente dipendente dall'ambiente e che beneficia innanzitutto di stimoli sensoriali che provengono dai genitori quali il contatto per le pelle e l'allattamento al seno e con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Gina sarebbero molti i commenti da fare il nostro tempo è quello che è devo dire che l'idea di coniugare sicurezza e fisiologia è il punto focale su quale possiamo lavorare quando promuoviamo questi passaggi indispensabili e la seconda cosa che mi è venuta in mente la mente mi è corsa due episodi ma ce ne saranno infinità di una mamma che sentendo il bambino piangere al nido lo riconosceva senza dubbio fra cento e se l'è andato a prendere di notte o di un'altra collega mia che mi ha raccontato poco tempo fa di esserselo nascosto durante un giro si erano dimenticati di portarselo via e lei l'aveva tenuto nascosto sotto le coperte una trentina di anni fa questo ancora ma insomma per dire che non è vero che le mamme non vogliono stare con i loro bambini ci vogliono stare come basta che ci siano le condizioni di attenzione sia organizzative che assistenziali e anche di sensibilità relazionale che è indispensabile perché questo lumini venga non tanto imposto ma richiesto e rivendicato dalle mamme che sono qui con noi e con le quali cominceremo fra poco in un altro assetto la tavola rotonda grazie ancora Gina e io direi che passiamo dopo queste relazioni proprio nel tema e quindi andiamo a sentire l'esperienza di Sofia 7 e di Laura De Zorzi che vengono dal Trentino se prendono il video non so in che ordine pensavate di raccontare purtroppo avete un tempo limitato ma so che sarete sicuramente molto efficaci perché l'esperienza diretta è quella di cui poi abbiamo più bisogno che ci misura sulla nostra capacità poi di intervenire Sofia Laura buongiorno buon pomeriggio Laura benvenuta e grazie della sua testimonianza prego di nulla grazie a voi insomma per l'invito e appunto io sono Laura sono mamma di Martino che ha ormai un anno e mezzo la mia esperienza io ho partorito all'ospedale di Rovereto è stata un'esperienza molto positiva da certi punti di vista e ho avuto la possibilità di fare il pella pelle con il mio bimbo da quando insomma l'ho partorito e ho avuto anche la possibilità di avere il mio compagno vicino sia durante il parto che nelle ore insomma subito dopo il parto con il pelle a pelle e ovviamente il periodo covid insomma non è stato facile anche se eravamo post covid ma comunque c'erano ancora delle restrizioni e soprattutto la presenza del papà era proprio era prevista per poche ore insomma quindi questo sicuramente non ha agevolato insomma questo questo periodo ecco in ospedale e io racconto la mia esperienza perché il mio bambino il giorno dopo che è nato diciamo purtroppo è risultato aveva probabilmente un virus e quindi è stato trasportato per fortuna nello stesso piano ma in patologia neonatale e nonostante questo insomma io ho avuto la possibilità di essere presente sempre quando quando volevo insomma quindi è stato molto difficile il momento della comunicazione perché sia me che il mio compagno ci hanno invitato ad andare appunto nella patologia neonatale ci hanno comunicato lì il fatto che il nostro figlio non sarebbe potuto andare nel reparto dove c'erano tutte le altre mamme che avevano appena partorito ecco quindi il momento è stato un pochino difficile poi comunque con la possibilità di andare quando si voleva questo sicuramente ha agevolato quei momenti ecco e ho avuto la possibilità una volta rientrata a casa di di poter essere seguita dalla dalla mia ostetrica io sono stata seguita per tutta la gravidanza dal percorso nascita di Rovereto e subito sapevo insomma che a rientro a casa sarei stata vista dalla mia ostetrica e questa è stata una una cosa molto preziosa e ringrazio ancora la mia ostetrica non so magari mi sta anche ascoltando è stato veramente molto prezioso il suo contributo nei giorni dopo ma anche insomma nelle settimane successive dove ad esempio per la mia esperienza ho riscontrato un non so se chiamarlo problema però insomma un problema nell'adattamento nel senso che avevo molto dolore e con l'aiuto dell'ostetrica che mi è stata veramente molto vicina questa cosa è stata è stata risolta o comunque lei mi ha poi indicato degli altri professionisti a cui potermi rivolgere per riuscire insomma a proseguire con l'allattamento e devo dire la verità che probabilmente se non ci fosse stata questa attenzione da parte dell'ostetrica non dico che avrei smesso di allattare ma ero molto molto vicina a farlo quindi il suo supporto è stato fondamentale e ecco quindi questa questa è un po' la mia esperienza è stata un'esperienza molto positiva con comunque degli ostacoli che sono stati ben superati grazie appunto al supporto delle figure professionali insomma nel mio caso appunto dell'ostetrica grazie 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 mille Laura è molto importante perché ci sta aiutando a focalizzare un passaggio che in questa tavola rotonda sarà affrontato che è quello del momento della dimissione dell'andare a casa e di quali sono le risorse che possono essere messe in campo dopo nonostante le situazioni difficili in cui ci si può trovare durante l'agenzia ospedaliera e questo richiamo alla funzione dell'ostetrica mi sembra estremamente rilevante e quindi grazie mille passiamo la parola a Sofia e vediamo un po' poi come questo alimenterà anche le nostre riflessioni dei nostri colleghi nel dibattito di tavola rotonda grazie grazie ancora ciao grazie per l'invito io sono Sofia da 11 mesi sono mamma di Milo abbiamo vissuto una gravidanza meravigliosa siamo presi tutto il tempo ma al momento della nascita qualcosa è andato storto per cui da che doveva nascere in casa maternità io sono stata seguita da delle ostetriche e avevo scelto di partorire in casa maternità quindi dal terzo mese di gravidanza sono stata seguita da queste ragazze ma appunto qualcosa è andato storto per cui alla fine Milo è nato con un taglio di usare e d'urgenza e questa cosa ovviamente ha creato un trauma molto forte a me in realtà anche al mio compagno e secondo me anche a Milo perché questo mi ha spinto a mettere tutta me stessa per farsi di uscire da questo da questo trauma insomma di comunque di lavorarci per cui niente al momento della nascita gli ho chiesto di non lavare Milo e di mettermelo subito addosso quindi sono rimasti pelle a pelle per due ore purtroppo il mio compagno è potuto arrivare solo a un certo punto e dopodiché è dovuto andare via perché appunto era ancora il momento in cui potevano stare solo due ore al giorno una mattina una mattina una mattina e questo devo dire che effettivamente a noi è pesato parecchio perché poi appunto con l'operazione taglia cesareo per me era molto difficoltoso fare tutte le operazioni insomma comunque fatto sta che abbiamo a un certo punto dopo circa un paio di giorni in 48 ore abbiamo fatto firmato noi la dimissione la possibilità di uscire perché la neonatologa avrebbe tenuto ancora Milo in realtà perché aveva avuto un calo tutto fisiologico dell'8% e io voleva dargli dell'aggiunta di latte artificiale io ho insistito assolutamente non volevo quindi mi sono presa le mie responsabilità ho firmato e sono andata a casa e in realtà una volta a casa è stata tutta un'altra cosa il mio compagno si è preso cinque mesi potuto stare a casa con me e questo mi ha permesso di dedicare tutto il tempo di cui avevo bisogno alla cura di Milo e anche alla cura di me stessa in realtà e dalla nostra famiglia quindi abbiamo risposto ai suoi bisogni abbiamo cercato all'ostetica perché chiaramente venivano a casa tutti i giorni per la prima settimana e poi due o tre volte a settimana per i primi 40 giorni e sono state anche a livello telefonico erano sempre presenti mi hanno trattato a livello fisico quindi la cicatrice mi hanno aiutato con consigli supporto psicologico e abbiamo iniziato un bel percorso con Milo con un osteopota e abbiamo iniziato un corso di messaggio infantile che ci ha aiutato tantissimo e io ho iniziato un percorso di psicoterapia per poter per poter elaborare insomma questo questo trauma e devo dire che adesso a distanza di quasi un anno abbiamo trovato un bellissimo equilibrio Milo sta sta molto bene e noi come tutta insomma tutta la famiglia posso per dire che insomma è stato è stato molto importante per me il poter avere il tempo il tempo di stare a casa e anche di avere il mio compagno a casa che effettivamente mi ha dato il tempo di poter non fare nient'altro che stare con Milo e per me è stato molto molto importante e niente questa è un po' la mia storia Sofia ci sta raccontando qualcosa che fa venire in mente come ha concluso la relazione Livio Provenzi con questo vaso che si rompe con questo con questa ceramica che si rompe che poi viene riparata e quindi tutto il grosso lavoro di riparazione che è necessario dopo un evento così traumatico io vorrei chiedere a lei e a Laura prima di passare la parola agli altri che cosa chiederebbero qual è la cosa che anche in base alla loro esperienza vedono che non ha funzionato e che vorrebbero vedere funzionare meglio rispetto rispetto a quello che ci hanno raccontato perché voglio dire quello che ci dice Sofia questo cesare è inevitabile perché appunto era necessario per la sopravvivenza di entrambi insomma quindi ma cos'è che mancava cos'è che avete sentito più carente ecco nelle vostre nelle vostre esperienze ma se posso dire per la mia esperienza la presenza del del mio compagno nei giorni dopo insomma noi siamo rimasti in ospedale poi alla fine nove giorni e nonostante cioè lui poteva venire soltanto quell'ora la sera e questo insomma tornassi indietro avrei voluto averlo vicino più tempo fare un po' uno strappo alla regola se possibile poi ovviamente non era una situazione facile c'era ancora emergenza e tutto quindi questa è una prima cosa e diciamo forse prima non l'ho accennato ma ci devo dire anch'io come ha detto Sofia che anche a me era stata proposta per Martino un'aggiunta di latte artificiale quando assolutamente lui non non ne aveva bisogno e e questo insomma contro tutto quello che mi era stato detto sia prima della gravidanza che ma sull'importanza dell'allattamento e di aggiungere soltanto nell'occorrenza scusate se c'è qualche rumore ma ho Martino qui con me allora non è rumore sono messaggi sperando quindi insomma stare un po' attenti a quello che viene detto insomma perché io ero anche preparata ma magari ci sono delle mamme che o sono meno preparate o magari un po' più sensibili in quel momento che possono cadere un po' in una scelta che magari non vogliono come possono esserci delle mamme che non hanno avuto il dispiegamento di energie e di risorse a disposizione che riuscite ad avere Sofia per esempio quando è tornata a casa va bene Sofia si vuole giungere rapidamente sì che io mi aggancio a quello che ha detto Laura e secondo me cioè a me ha aiutato molto il fatto che le mie ostetriche mi avevano raccontato tutto quello che sarebbe che mi avrebbero proposto o fatto a livello medico se avessi se fossi finita l'ospedale appunto e quindi io con questa consapevolezza alcune cose ho potuto scegliere di farle o non farle quindi per esempio io ho chiesto di avere il bambino non lavato addosso altrimenti l'avrebbero lavato in realtà avevo chiesto di avere un taglio del cordone ritardato ma non è stato possibile per via del cesario e mi hanno riconsegnato la placenta mi hanno insomma delle cose sono state attenti a questa cosa qua ma perché sono arrivata con la mia consapevolezza e ho potuto scegliere alcune cose chiaramente tirandomi dai medici quindi cioè insomma e un'altra cosa anche per me assolutamente il compagno è fondamentale e per me è stato molto difficile il fatto che eravamo in troppe istanze secondo me eravamo in quattro istanze con cinque bambini perché uno aveva avuto due gemelle tutte con il cesario quindi tutte con difficoltà motorie insomma troppa confusione poca intimità io non mi sono per niente goduta al momento dopo fatto purtroppo questo è stato difficile grazie grazie Sofia grazie della vostra generosità anche di esporvi così personalmente anche emotivamente grazie grazie davvero Alessandra Alessandra Bortolotti eccomi come presentarti dico mamma mamma conti quindi ti lascio ti lascio i tuoi mi faremo 15 minuti 15 minuti non mi ricordo male e quindi ti ascoltiamo molto volentieri mi sembra in continuità con quello che abbiamo appena appena sentito grazie Alessandra di essere con noi grazie Leonardo grazie grazie mille sono molto onorata grazie dell'invito cercherò di essere ho davanti a me l'orologio 4 e 34 quindi terrò i miei 15 minuti voglio fare un piccolo conte con quanto appena ho ascoltato allora io sono mamma di due ragazze che adesso hanno 19-15 anni quindi sono molto grandi e ho avuto con la prima la separazione dopo la nascita quindi mi riaggancio alla presentazione precedente insomma e questo è stato alla fine all'origine di tutto il mio poi lavoro di psicologa in che senso nel senso che ho talmente sofferto questa questa separazione fra l'altro con un Apgar 9-10 quindi insomma non poi ben così giustificata probabilmente che ringrazio tantissimo la Gina ancora della sua presentazione perché da mamma veramente mi ha risonato ancora 19 anni dopo cioè quando noi io sono anche ovviamente una psicologa il fatto è che noi mamme e qui vorrei portare la voce mia in questo senso di mamma non abbiamo molto spesso la possibilità di elaborare il parto allora prima la mamma ha detto che ha fatto una psicoterapia ma quanti psicologi sono realmente formati nella fisiologia anche del periodo perinatale no? noi sappiamo che la psicologia perinatale in Italia tra virgolette a livello istituzionale non esiste quindi non è facile per una mamma poi trovare la possibilità di rielaborare il parto visto che parliamo del dopo parto molte energie sono spese anche dalle organizzazioni dai sistemi sanitari nazionali sull'accompagnamento alla nascita nei consultori sicuramente si fa un ottimissimo lavoro ma io quello che riscontro nella mia attività e anche da mamma è che non è facile trovare poi subito dopo la possibilità di rielaborare proprio il momento della nascita soprattutto se questa non è andata come ci aspettavamo ecco io che lavoravo in quell'ospedale dove poi ho partorito appena ho partorito ho detto o la bambina me l'ha andata a prendere voi o mi alzo io dal lettino con le fleboe me la vado a prendere viene fuori l'ossitocina che porta anche all'aggressività se vogliamo perché è una priorità di stare insieme al proprio cucciolo e io col secondo parto invece avvenuto in acqua o nelle migliori condizioni ecco ho veramente potuto provare la differenza quindi la voglio portare anche qua perché è davvero importante garantire la continuità e la presenza dove è possibile della simbiosi ecco quindi questo lo volevo proprio dire da mamma grazie grazie tante di quello sentito fino adesso allora io condividerei lo schermo vediamo se riesco facciamo così ditemi se perché ho messo veramente solo ecco ci siamo vero presentazione vediamo un po' si lo vediamo ok presentazione e dall'inizio perché mi è stato chiesto di parlare di internet no quindi delle mamme e internet allora e allora allora andiamo avanti vediamo eccola qua allora noi sappiamo è già stato detto prima come il covid ha cambiato all'improvviso quella che è stata l'esperienza della maternità dell'agenzia di realità io qualche giorno fa ho fatto una consulenza a una mamma che aveva partorito il 13 o 14 marzo 2020 quindi un bambino grande ormai di tre anni e mezzo ma ancora a proposito proprio di rilavorazione del parto lei mi stava raccontando come non si aspettava di dover partorire da sola e fino a dieci giorni prima la gravidanza era andata molto bene e lei si è ritrovata immersa in questo mondo che noi sappiamo è cambiato da un momento all'altro e ancora aveva bisogno di parlarne perché la relazione con il suo bambino a detta sua era iniziata nell'isolamento quindi nell'isolamento sia nel momento del parto ma anche dopo perché i nonni non si vedevano perché si aveva paura insomma chiaramente di attaccargli una possibile malattia e tutte le dinamiche proprio relazionali sono cambiate e quindi è mancato il cosiddetto villaggio il villaggio che servirebbe per allevare un bambino e questa mamma ancora mi ha molto colpito che ancora dopo tre anni e mezzo l'ho vista quasi come con un vissuto traumatico non però evidentemente rilevato perché è chiaro che c'era bisogno di chiudere tutto però è anche successo che sia le mamme che i bambini che le famiglie abbiano improvvisamente dovuto cambiare il loro assetto e questa mamma mi raccontava anche che il bambino non avendo visto i nonni per tantissimo tempo è come se avesse una relazione diversa rispetto per esempio al fratellino più grande che in realtà era proprio cresciuto con i nonni quindi questa è una dimensione che ora che passa il tempo secondo me tendiamo a magari considerarla un po' meno però ci sono i bambini di quegli anni cioè che ormai sono tre anni fa che i loro genitori portano questa testimonianza quindi non dimentichiamoci di quello che è successo ai genitori a causa noi sappiamo della pandemia che può avere strascichi ecco ancora nella relazione con i loro bambini volevo parlare iniziare a parlare di internet e del computer in generale con questa citazione di Elia Scanetti pubblicato postumo soltanto il sapere che esita ora vediamo ecco conta questo è ciò che più di ogni altra cosa manca ai computer cioè che cosa significa secondo me questa citazione che mi è piaciuta molto e quindi ve la voglio condividere quando una mamma da sola riprendiamo il periodo del covid è a casa e dice ma io non posso condividere la mia esperienza con altre mamme chiaramente l'abbiamo visto tutti tutti abbiamo imparato a fare le chiamate online tutti abbiamo partecipato a webinar io personalmente non avevo veramente tregua era un continuo fare convegni webinar e un sacco di eventi e questo ha creato finalmente anche se vogliamo una capacità una finestra anche su questi mezzi che sono sicuramente importanti però ha se vogliamo anche creato una diversità di relazione per quello che è appunto la ricerca della condivisione delle mamme cioè il villaggio c'era ma era virtuale e questo significa il proprio luogo sicuro che è la casa è diventato aperto in un certo senso però con una finestra veramente ampia rispetto a quella che può essere la scelta di andare su un social quindi un facebook un instagram io sono una boomer ormai quindi un facebook un instagram era praticamente obbligatorio questo che cosa è significato è significato che alcune mamme non erano poi così preparate e magari cercavano anche soluzioni o cercavano preparate intendo all'impatto non preparate ad avere un bambino che è quello chiaramente indivenire sempre ogni giorno a qualsiasi età dei nostri figli quindi l'esitazione in che senso è mancata la terra di mezzo secondo me quando noi ci rivolgiamo ai social ai computer tuttora è come se lo vediamo nei ragazzi o due figli adolescenti ci sono degli studi ormai molto famosi che dicono che la loro area visiva del cervello è molto aumentata mentre l'area quella dedicata a un certo tipo di ragionamento è diminuita perché loro con un click ricevono una risposta dopo pochissimi secondi i ragazzi quindi che cosa significa questo significa che i social e internet hanno modificato alcune anche strutture del cervello e se questo lo vediamo nei ragazzi anche nella quotidianità per una mamma che magari ha già 20 o 30 anni senza questi questi mezzi è un impatto grosso quindi cerchiamo di proteggere la questo è uno stimolo cerchiamo di proteggere la possibilità di farsi delle domande e di darsi del tempo di rispondere a queste domande cioè non è detto che noi dobbiamo trovare subito io per esempio mi occupo di sonno infantile quindi la consulente o il consulente che ci dica in tre incontri come far dormire il nostro bambino tutta la notte alle otto perché a quell'ora ci dicono che c'è il picco della melatonina ma cosa serve a quella famiglia cosa serve a quel bambino cosa sta succedendo in quella casa quindi cerchiamo di mantenere una dimensione personale al di là del metodo e purtroppo su internet noi sappiamo che si trova tutto tutto quello che cerchiamo quindi chiusi in casa dopo il parto è stato un rischio è stata un'opportunità il luogo era veramente sicuro era al riparo da quella che noi abbiamo chiamato per esempio linfodemia quindi su facebook molti entrano così fiduciosi ma escono per esempio ricordo quando sono diventata mamma che appunto usavo facebook ora usano tutti instagram di aver fatto le una le due di notte perché in un gruppo era nata una discussione tremenda non mi ricordo neanche sull'argomento e io ero stata attaccata da quelli che oggi chiameremo troll o haters in una maniera enorme oppure avendo già un libro forse due uno sicuramente solo in pubblicazione quindi manca la protezione di cui si ha bisogno quando si nasce si diventa genitore e quando nasce un bambino su questi mezzi e quindi quali sono i rischi abbiamo parlato appunto sappiamo dell'infodemia cioè che io digito non so pandemia e mi viene di tutto no? quindi io magari sto cercando un'informazione specifica e vengo invece esposta a un sacco di aspetti di quella informazione per cui poi dopo un po' non mi ricordo nemmeno più da dove sono partita e questa è una cosa che spesso succede quindi se la mamma magari in un momento di insicurezza instabilità va a cercare non so l'introduzione dei cibi complementari o la gestione dell'adattamento può veramente trovare il tutto e il contrario di tutto quindi notizie fake o notizie genuine e non è assolutamente facile distinguere quindi una parola sulle dipendenze perché noi siamo tanto preoccupati della dipendenza dalla poppa e dal lettone però poi succede che siccome abbiamo sdoganato questi mezzi e meno male perché sono utili guardiamo ora dove siamo quindi non ne stiamo discutendo l'uso ma ne stiamo discutendo l'abuso a tutte le età perché devo dire io vedo ovunque bambini molto piccoli capaci di utilizzare magari cellulari tablet molto meglio magari di alcuni adulti ieri ero a un bellissimo convegno a Vignola del centro delle famiglie per Terre e Castelli dove sono stati proiettati dei dati veramente inquietanti sul fatto che appunto l'utilizzo dei cellulari da parte dei cellulari tablet da parte dei genitori avviene mi sembra che c'è stata una ripositiva anche prima avviene in presenza dei bambini i quali imitano poi il comportamento dei genitori quindi dovrebbe partire già dai genitori per esempio ieri si proponeva a questo convegno di per dirne una evitare il cellulare a tavola banalità però la tavola è il luogo dove ci si ritrova magari per un quarto d'ora al giorno la sera magari quando tutti tornano al lavoro e quindi sembra che la difficoltà sia quella di mettere dei confini tra questi mezzi che sono certamente utili e direi le relazioni quindi io sono quasi in anticipo sono due minuti che regalo vi ringrazio tantissimo chiaramente l'argomento sarebbe ampio e vi rimando a questo studio ampissimo che stanno facendo negli Stati Uniti dove stanno studiando dei bambini dalla nascita che adesso hanno dieci anni e li studieranno probabilmente per trent'anni della loro vita ma i primi dati sono realmente inquietanti e sono stati già pubblicati per esempio una trasmissione di grande diffusione che è presa diretta un paio di mesi fa quindi vi ringrazio grazie grazie Alessandra perché ci ricordi che zero separation va di pari passo a zero esposizione a schermi perché altrimenti tra separation e esposizione a schermi non vanno non vanno tanto d'accordo l'Accademia Americana di Pediatria questa raccomandazione oramai l'ha fatta propria in maniera determinante l'altro elemento che mi sembra importante raccogliere è anche questa totale situazione di persone indifese quando si è in Facebook perché uno dei richiami che anche colleghi anche a proposito dell'intervento di Ilaria Lega qualche mamma con gravi difficoltà psicologiche un bel da fare da parte degli psicoterapeuti che cercavano di rassicurarla dopo invece magari sulle sue chat di Whatsapp o in Facebook trovava tutta una serie di colpevolizzazioni che erano una novità rispetto a quello che è il lavoro di uno psicoterapeuta e tu combatti contro qualcosa che non è più arginabile interpretabile non è controllabile esattamente la salute mentale e il benessere all'interno di questo contesto hanno trovato un nuovo interlocutore che apporta delle complessità ulteriori ti ringrazio molto e ho negoziato e penso che non avremo grossi problemi il quarto d'ora di Chiara Totti e il quarto d'ora di Claudio Mangiolavori sono assolutamente assicurati per cui con molto piacere vi do la parola a Chiara che è una consulente professionale per l'allattamento è formatrice sull'allattamento secondo il modello MS Unicef per la regione toscana e non solo è presente nel comitato tecnico ministeriale per l'allattamento materno non saprei cos'altro raccontare attiva sull'allattamento materno da una vita e molto mi onore della sua amicizia quindi cara Chiara a te la parola grazie Leonardo per questa calda presentazione grazie assolutamente dell'opportunità di essere qui in questa importante occasione di condivisione vado a condividere lo schermo vediamo se tecnicamente riesco a procedere eccomi qua allora cosa faremo in questi 15 minuti andremo a vedere l'evoluzione del passo 8 quindi l'evoluzione dall'allattamento a richiesta alla nutrizione responsiva argomento che veramente mi emoziona che mi appassiona tantissimo quindi che cosa vediamo in questa evoluzione vediamo un passaggio dall'incoraggiamento all'allattamento al seno tutte le volte che il neonato sollecita nutrimento ed approviamo ad un'alimentazione responsiva attraverso un sostegno alla famiglia ai genitori per comprendere e rispondere ai segnali del bambino senza limitazione senza paura di viziare senza paura di sbagliare le indicazioni che poi troviamo nella guida all'applicazione dei passi fornita da Unicef che ci accompagna nell'applicazione di questi importanti passi vede appunto in questi dieci anni una trasformazione da insegnare alle donne quindi porci in una posizione di esperti che insegniamo a riconoscere il bambino che ci dice che ha fame e dove arriviamo invece? Arriviamo in un accompagnare in un seguire in un affiancare la famiglia a capire l'interesse cioè il messaggio del bambino che mostra interesse ad andare al seno allora questo ci permette una trasformazione della promozione dell'allattamento che dice ai genitori è importante che l'allattamento funzioni in un sostegno che dà strumenti per farlo e quali sono questi cioè questo concetto di questa trasformazione degli strumenti allora questo è importante non solo per i decisori che ci aiutano con i protocolli per indicare il lavoro ma anche proprio nella pratica clinica ci dà degli strumenti eccezionali quindi naturalmente i punti chiave sono basilari l'allattamento è un determinante di salute dei bambini delle bambine delle madri delle famiglie di tutta la società ma l'obiettivo non è più un obiettivo di raggiungere uno scopo sul tasso d'allattamento l'obiettivo è affiancare le famiglie dare ai genitori la possibilità di fare emergere le competenze come riconoscendole guardandoli come esperti valorizzando quello che fanno e se noi diamo queste competenze e il professionista la professionista naturalmente fa il proprio lavoro integra le conoscenze dei genitori questo avrà immediatamente una ricaduta sui tassi d'allattamento quindi però ci spostiamo non siamo qui per aumentare i tassi non siamo qui per dare strumenti per valorizzare il genitore è l'esperto dei propri figli ce lo diciamo ma come possiamo trasformare questa frase in qualcosa di concreto prima di tutto riconoscere cioè il professionista la professionista la rete di sostegno che vede in realtà i genitori come competenti e dare gli strumenti alla mamma al papà ai compagni alle compagne di essere consapevoli che sono veramente gli esperti e questo è un elemento fondamentale ma è vero e allora come possiamo farli sentire oltre a vederli come competenti quindi lavorare riflettere far sì che ci si immedesimi nel feto si immedesimi dal concepimento dell'embricone nel feto perché la relazione come è stato già anticipato magnificamente inizia durante la gravidanza e sono una combinazione di comunicazione intraterina ormoni risposte fetali alle emozioni dei genitori al tocco dei genitori delicato sul vento della mamma e questo coinvolgimento attivo questa consapevolezza genera un legame precoce che è una parte fondamentale del benessere e dello sviluppo del bambino e naturalmente l'allattamento non è influenzato è un continuum rispetto a questo e questo è lo strumento che noi che facciamo clinica è un regalo enorme che ci ha fatto questo cambiamento questa transizione quindi l'allattamento che è influenzato dalle esperienze pre per i natali e è dentro alla relazione quindi passiamo da una bambina a un bambino che dice ho fame richiede e la mamma risponde no così è difficile da far funzionare e invece conoscere il bisogno di sicurezza che ci descriveva prima Leonardo del bambino il bisogno del contatto della protezione avrà ricadute sulla gestione dell'allattamento ma non come scopo che l'allattamento deve funzionare lo farà in maniera conseguenziale è fondamentale che i genitori possano accedere alle informazioni a conoscere le fasi della crescita delle loro bambine e dei loro bambini perché questo non lo destabilizzerà ai fini dell'allattamento quei momenti di regressione che precedono quelle nuove competenze dei bambini e dei bambini possono essere molto destabilizzanti sono dei momenti cruciali in cui spesso i genitori che non conoscono che non hanno non hanno avuto l'accesso alle informazioni adeguate collegano a una scarsa produzione di latte per esempio e se invece i genitori hanno l'accesso a una guida anticipatoria rispetto a quello che succederà anche questo preserverà a loro e i loro bambini a dei malintesi e poi anche il valore di imparare attraverso prove d'errori e i genitori vorrebbero essere perfetti ma comprendere come sia un valore aggiunto non essere perfetti Alessandra ci ha detto che i bambini e le bambine imparano per imitazione pensate com'è distruttivo dover imitare la perfezione quindi l'alimentazione responsiva è un elemento quindi è un elemento chiave della genitorialità responsiva perché si concentra sull'ascolto delle necessità delle necessità della bambina del bambino e questo approccio si basa sulla fiducia del fatto che il neonato ha una capacità innata enorme di comunicazione e conoscere questo per i genitori è veramente fondamentale perché proprio anche loro possono trovare così gli strumenti per avere la fiducia nella loro capacità di interpretare e tutto questo a cosa ci porta? Ci porta a un confronto che farà uscire la famiglia fiduciosa di essere competente perché l'abbiamo visto competente perché abbiamo dato strumenti per comprendere il loro bambino e la loro bambina è disponibile anche a investire energie emotive e pratiche di cambiamento di impegno quindi se si sentono competenti lavoreranno se noi non li consideriamo competenti le cose sono così complicate non ci capisco niente rinunciamo no? a tutto questo inoltre l'alimentazione responsiva è alla base tecnicamente e di nuovo la mia entusiasmo della stimolazione appropriata della produzione di latte per permettere al seno di produrre ciò che il bambino ha bisogno quindi non più la fame ma il bisogno del seno che appunto dà sicurezza contatto protezione e le evidenze naturalmente sono abbondanti no? che la ricerca dimostra che incentivare la partecipazione attiva e responsiva dei genitori ha effetti positivi per tutti componenti della famiglia anche i professionisti e le professioniste che sono a fianco dei genitori e Angela ha già ben descritto tutte le iniziative no? a livello italiano internazionale rispetto a questo e allora cosa ci possiamo immaginare? ci possiamo immaginare qualcosa di questo accompagnamento della valorizzazione dell'integrazione delle conoscenze nei vari periodi fondamentali che sono naturalmente il periodo prenatale la nascita le prime settimane ma i primi due anni quindi i famosi mille giorni in ogni fase la famiglia ha bisogno di immedesimarsi nel proprio figlio nella propria figlia di vedersi riconosciuto di avere una genitorialità partecipata e conoscere proprio gli elementi fondamentali facciamo un esempio quando si parlava di allattamento a richiesta noi descrivevamo ai genitori bambino porta la mano alla bocca fame se andiamo a valorizzare le competenze del neonato e dei genitori di interpretarle sicuramente e anche in una ottica di guida anticipatoria potremmo condividere per esempio la conoscenza che il feto a 14 settimane si ciuccia la mano non ha fame è un titolo dal cordone ombelicale quindi sì cogliere il segnale questo linguaggio della neonata del neonato di portarsi la mano alla bocca offriamo il seno ma non necessariamente se invece che il seno vuole ciucciarsi la mano significa che il latte non c'è più visto che più o meno in quel periodo il seno è sgonfio non mi goccia da più vedi ha fame mi rifiuta il seno non ho latte quindi proprio aiutare a comprendere il linguaggio descrivendolo descrivendolo e facendolo nostro sempre nell'ottica della pratica clinica di affiancamento alle famiglie com'è difficile comunicare a un genitore che perché il bambino spalanchi la bocca deve essere vicino rivolto verso la mamma allineato in un momento che magari anche la persona più razionale non riesce a collegare tutte le informazioni e se invece parliamo chiediamo alla mamma cosa succedeva quando Maria era in pancia quando la sentivi muovere e quando è nata guarda ti ho visto nel corridoio ho visto caspita Lucia come come è in sintonia con la sua bambina e come è rilassata la bambina e magari lei cerca di attaccarla e si agita tutta ma ti ricordi come stava che cosa succedeva e magari lei si ricorda che la stava abbracciando che la stava contenendo e di nuovo passare da una prescrizione si fa così 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 a quello che funziona è la cosa giusta cosa ha bisogno il bambino cosa hai bisogno tu per spancare la bocca cosa hai bisogno per mangiare serenamente di stare su un'altalena magari gli verrà in mente alla mamma che anche lei ha bisogno di stare tranquilla quindi di nuovo l'allattamento la nutrizione all'interno della relazione e questo ci aiuta tantissimo questo vale naturalmente per tutti i tipi di nutrizione perché la base fisiologica è l'allattamento se una famiglia non vuole non può alimentare il bambino al seno conoscere il linguaggio del proprio figlio della propria figlia sarà lo strumento per una nutrizione fisiologica spesso il biberon la nutrizione con un ausilio generalmente il biberon viene visto come qualcosa di semplice lo sanno fare tutti ma se a un adulto raccomandiamo di mangiare lentamente come possiamo pensare che un bambino possa in 5 minuti risolvere il pasto e al seno gli ce ne vogliono mezz'ora gli serve mezz'ora e quindi anche nell'alimentazione non al seno la relazione la responsività è alla base e qui abbiamo degli strumenti molto interessanti il paste bottle feeding quindi tra la bottiglia seguendo i segnali del bambino di fame di interrompere di riposare che l'alimentazione anche non al seno ha bisogno di seguire il linguaggio del bambino e quindi permettergli di fare pasti più ravvicinati e pasti più più distanziati sempre nell'ascolto in collaborazione naturalmente con i messaggi corretti non è che tutte le volte il bambino vuole diventarsi con la formula possiamo darlo c'è un target un range nella 24 ore di quantità di alimento che può assumere ma sempre nell'ascolto dei suoi bisogni concludo con un video che mi è molto caro e con due parole chiave che credo che questo video ci possano trasmettere e sono i tempi rendiamoci conto nella responsività dei bisogni dei tempi delle famiglie del neonato o della neonata e fiducia in questo video c'è una famiglia il papà si vede solo in parte ci sono le gambe ma vi assicuro che era un papà e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. tutto il passato che faccio? che fatica che fatica che fatica che fatica che fatica che fatica si vuole la mamma che mi riparte guardate, te vedo io perché è qui su non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Chiara, quanti commenti mi devo tenere per me, ma insomma questo cambio di paradigma dalla latte alla relazione mi sembra importantissimo che tu l'abbia sottolineato, anche perché stiamo nel contesto del benessere psicologico e credo che poter fare le cose che siamo capaci, vedercelo riconosciuto è la cosa che ci fa stare bene, che ci insegnino ciò che magari sappiamo già fare o che vorremmo fare a modo nostro, diventa qualcosa che diventa anche respingente. Io penso che tante ostilità rispetto ad alcune proposte derivino proprio dell'assetto relazionale all'interno del quale sono stati costruiti certi modelli. E questo cambio di paradigma hai ragione a dirci che ci sta veramente cambiando le cose, pensare all'allattamento, all'atte che esce come effetto collaterale della relazione, di una buona relazione. E credo che questa sia una delle lezioni più importanti proprio nel momento in cui focalizziamo l'allattamento all'interno del benessere psicologico. Il benessere psicologico come premessa e la cura del benessere psicologico come premessa poi è anche una buona riuscita dell'allattamento. Grazie ancora Chiara. Claudio Mangialavori, pediatra, pediatria del piccolo principe di Modena, pediatria di gruppo, un'esperienza estremamente interessante e coinvolgente. Hai il tuo quarto d'ora, nel senso che abbiamo 10 minuti di sforamento dalle 17.15, quindi possiamo andare alle 17.25, quindi insomma ti lasciamo a questa conclusione con, credo anche tu, il problema di essere sopra fatto da un sacco di stimoli, però filtrati attraverso quella che è la tua esperienza. Tu queste mamme poi le vedi nel momento della dimissione, le ricevi assieme ai tuoi colleghi in ambulatorio, si pone il loro problema del benessere psicologico e anche non solo, e di tante altre cose che vanno incontro anche nel normale sviluppo fisiologico dei bambini. Quindi Claudio è molto attivo, protagonista nella vita culturale della pediatria in Italia e in particolare in Modena, nella promozione dell'esperienza della pediatria di gruppo. Claudio, a te la parola. Grazie di essere qui. Grazie. Grazie davvero del tuo contributo. Grazie Leonardo, grazie a tutti voi, essere l'ultimo da vantaggi e svantaggi. Il primo vantaggio è che di fatto dovrei riuscire a far sintesi nel come nel nostro lavoro diamo continuità a poi tutto quello che è stato detto. Io alcuni di voi conosco, altri no, mi permetto di dare del tuo a tutti, scusate non ve l'ho chiesto. Quindi sia quello che diceva Livio, che diceva Ilaria, che diceva anche Ginanko, c'è tutta la parte teorica iniziale, sicuramente mi chiedeva, mi stimolavo sul dare contenuta. Un grazie particolare a quello che ha fatto Chiara Marina, Totti, che praticamente mi ha tolto la relazione. Nel senso che, ma questo mi va bene, io non ho scritto, non ho video, quindi posso parlare, non ho slide. Quindi questo mi permette di concentrarmi sull'altro aspetto, perché sarebbero tanti, e forse di recuperare anche un po' di tempo. Nel senso che Chiara ha chiaramente parlato dell'approccio touch point, cioè una più che formata in quello che è l'approccio touch point rispetto a queste cose, che è quello che usiamo anche noi rispetto a questo tema. Adesso arriverò a toccare l'argomento. Ed è quello che un pochettino dovrebbe guidare anche il nostro modo poi di fare pediatria su questo discorso. Quindi il tema grosso è come dare continuità a tutte le cose che sono state dette, quindi come trasferire tutta questa epigenetica e tutte queste conoscenze che abbiamo riportato in quello che è poi una pratica clinica costante. Come tradurre questa nell'esperienza quotidiana, Chiara ha fatto un esempio sull'alimentazione, con le famiglie. Livio diceva che noi siamo animali in connessione e che le nostre connessioni costruiscono significati. Io ho una formazione psicoterapeutica sistemico-relazionale, quindi sentire queste parole era, come dire, oro colato per la mia anima. Ed è il grosso problema poi nella gestione quotidiana, continua, perché con le famiglie non fai altro che costruire significati. Chiara ci ha fatto un esempio stupendo dentro un approccio che adesso prenderemo. Facile dire che è importante pelle a pelle, che è importante una serie di cose, ma poi devi tutto questo calarlo nella relazione con la famiglia, nella esperienza che la famiglia si porta dietro, i singoli rappresentanti della famiglia ristretta e allargata, in quello che è la loro immagine di famiglia. Poi sappiamo già tutti, senza cadere nella psicologia spicciola, in quello che è l'immagine anche della propria maternità, della propria paternità, del figlio atteso, tutti questi temi li conosciamo. Noi incontriamo mondi di contenuti che in qualche modo devono integrarsi rispetto a questo aspetto. E questo non solo fra noi pediatri o gli ambulatori, tutti gli altri servizi, perché non riguarda solo la pediatria a questo tema, riguarda in genere tutti i servizi a sostegno e la famiglia, ma anche fra i servizi stessi. Il famoso problema di come non sentirsi monodi, ma come sentirsi parte di una rete di servizio. E quindi come condividere linguaggi. Questo è un po' il tema importante. Quindi come costruire poi anche significati fra sistemi, ma non entro in questo. Noi nel nostro piccolo cosa facciamo? Allora, l'approccio touch point è l'approccio base su quale noi lavoriamo. Mi fermerò solo alla prima parte, molto veloce anche dell'accoglienza, per dirvi un po' come gestiamo i primi incontri. Sicuramente una cosa fondamentale è il fatto che riusciamo, almeno qui a Modena, a fare una presa in carico precoce. Cioè noi, per come sono gli accordi territoriali, il bambino e la famiglia arriva da noi entro i sette giorni, direi fra il quarto e il settimo. Essendo la nostra pediatria di gruppo, vuol dire che al nostro interno abbiamo non solo pediatri, ma abbiamo infermiere, di cui uno è anche estetica, segretari e altre persone. Il primo approccio alla famiglia da noi, in questo approccio touch point, cioè un approccio che utilizza la relazione come occasione di crescita e osservazione, il primo contatto è fatto direttamente dall'infermiere, non è il pediatra che gestisce l'ingresso nel servizio. Questo perché? Perché l'infermiere o l'infermiere ostetica dedica un tempo specifico, nel primo momento di visita, al colloquio con la famiglia sul vissuto di mamma e bambino e di mamma, papà, bambino e sistema. La prima visita da un pediatra non è sul bambino, ma è sulla famiglia, sulla relazione. Famiglia sulle famiglie. Uso il termine famiglia singolare, ma intendo le famiglie. Nel nostro moratorio abbiamo famiglie molto diverse. Quindi questa è una cosa molto importante. La prima parte è proprio dedicata al vissuto della gravidanza, al vissuto della maternità, l'esperienza vissuta in ambulatorio, com'è il ritorno a casa, quali sono tutte le domande o i dubbi che hanno rispetto a questo nuovo inizio. Quello che dicevamo prima Leonardo, la dimissione è uscire da un ospedale, un luogo sicuro e trovarsi, almeno per le prime famiglie, in un terreno un po' vuoto, non sai bene cosa ti aspetta. Quindi questa è la prima cosa che viene fatta. E devo dire che è molto arricchente perché permette alle famiglie di partire già con l'idea che qui l'attenzione non è sul bambino, ma è sulle relazioni. E anche capire che ci sono modi diversi di poter leggere le cose. Perché se operatori diversi interagiscono in modo diverso con un sistema famiglia, quelle che sono le percezioni e le costruzioni significate diverse sono. E questo permette un arricchimento, non una confusione. Noi veniamo successivamente in questa cosa. E quello che cerchiamo di fare è proprio l'esempio del modello touch point, che si basa su due basi fondamentali. Uno, lo citavo molto bene Chiara prima, una conoscenza profonda, quello che chiedeva Angela Bortolotti, Alessandro Bortolotti scusate, della fisiologia del bambino. La conoscenza sul sviluppo neuroevolutivo. Deve essere una, per tutti gli operatori che lavorano intorno al campo di maternità, un argomento condiviso e preciso, molto approfondito. Del quale il genitore ha tutti i diritti di sapere nulla. Il genitore viene con tutta una serie di pregiudizi, nella parola pregiudizio non da un'accezione negativa, ma di precomprensioni, se vogliamo usare un termine diverso, che fa parte del proprio modo di concepire la famiglia, di concepire il bambino e delle relazioni che intorno ha avuto. Noi quello che portiamo è la nostra competenza professionale, insieme alla competenza, che citavo molto bene Chiara, del genitore come esperto del bambino. Ma il genitore esperto del bambino non è detto che deve essere un genitore esperto di quelle che sono le fisiologie intorno al bambino. Questo è l'apporto che noi dovremmo portare. Oltre a questa conoscenza c'è il sostegno alla relazione e la capacità di entrare nelle dinamiche appunto di significato della famiglia stessa. Questo è un po' quello che fa l'apporto Touchpoint. Chiara ha fatto un esempio molto preciso. Quindi individuare nella normalità quella che è la possibilità della costruzione di una relazione. Faccio un esempio semplice. Non è detto, anzi la maggior parte delle mamme non sanno che il bambino, che il neonato ci vede. Sembra una cosa stupida, noi tutti lo sappiamo, ma non lo sanno. Allora, se io nella mia visita ambulatoriale, do dei flash perché già tutto è stato detto, ma se io nella mia visita ambulatoriale non mi preoccupo di fare un riflesso di moro, una marcia automatica. C'è tutto quello che è una valutazione passiva dello sviluppo del bambino, ma mi concentro sul fatto che il bambino va contenuto in un contenimento fisico, permette al bambino di entrare in relazione, fai vedere al bambino che se la mamma lo chiama, il bambino si gira verso di lei. Cioè lavori sulle prime fondamentali osservazioni delle grandi competenze che il bambino ha, tu non stai facendo altro che lavorare sulla competenza genitoriale. Cioè dai al genitore gli strumenti per poter capire come entrare in relazione con questo cucciolo. Non so se riesco a dare un esempio, no? Allora, cambia proprio il modo di concepire quello che è il nostro bilancio di salute. Sapete che noi abbiamo un percorso, una diacronicità, no? Noi iniziamo a seguire un bambino, una famiglia dai zero mesi e andiamo avanti fino ai 14, 16, speriamo 18 anni se ci saranno probabilmente. Abbiamo un tempo lungo in cui costruire questa capacità di relazione fra noi e la famiglia, ma soprattutto fra la famiglia e il bambino. Con le metodologie che Chiara ha detto, ha fatto dei bellissimi esempi, perfetti esempi, sul tema dell'alimentazione. L'utilizzo delle guide anticipatorie che citava Chiara rientra proprio in questo, cioè rientra nel fatto che tu presentando la competenza del bambino, aiuti i genitori a prevedere quello che potrà succedere nelle tappe successive. E questo è un aiuto fondamentale perché dà al genitore gli strumenti per non trovarsi sperso, come il bambino si trova sperso nell'ambiente, ma sperso davanti a un normale cambiamento che il bambino ha. Ma anticipare, cominciare a costruire quelle che sono le competenze per affrontarlo. Una guida anticipatoria però la puoi fare se conosci di nuovo il neurosviluppo, perché se la tua guida anticipatoria è costruita sul raccontato, sulla voce popolare intorno al bambino, non sei di aiuto. Faccio un esempio molto più avanti, veloce, no? Si parla sempre in psicologia dei terrible two, dei famosi terribili due anni. Ed è un approccio errato, no? Perché già usare il termine terribili due anni o parlare del bambino con il bambino in competizione con la famiglia, capite già come le parole costruiscono una relazione di simmetrica, di scontro, no? Invece quello di cui devi sapere portare, scusate il salto molto avanti, ma è un'età in cui tutti facilmente abbiamo davanti, no? L'esperienza che ha avuto figli in modo particolare. Lì stai lavorando sull'esperienza della competenza, della volitiva del bambino, della capacità di lavorare su idealità e produrre pensieri, azioni e voglia di realizzare se stesso, che si confronta con la voglia di aderire al desiderio della famiglia o del tuo caregiver, no? E questo manda in tinta la capacità espressiva del bambino. Molto diverso, se pensate, come lettura del dire lui ce l'ha con te o lui è terribile, no? Lui semplicemente sta sperimentando una propria capacità ideativa, in tutt'altro taglio. O pensate tutto al problema, andando ai tapi vicini, della gestione del sonno. C'è un esperto di sonno, no, Alessandro? Quindi se dico cose non corrette, correggimi, ma tutto il problema della gestione del sonno, sei, otto, dieci mesi, no? Tutte le ansie notturne, risvegli quello che succede. E se tutto questo lo legge come, di nuovo, il bambino che ce l'ha con me o tutto un'altra parte, capisci come non riesci a lavorare col genitore, a prevenire e a essere competente, responsivo, rispetto a un bisogno. Questa è un po' la traduzione che dovremmo dare. In questa capacità di intervento, che è un intervento sia preventivo che protettivo, perché aiuta alla lettura del bambino, c'è anche una capacità di osservazione, perché diventa una modalità poi di leggere e interpretare insieme quella che è la relazione del caregiver, del genitore, col bambino. Quindi, ad esempio, è un ottimo campo di osservazione anche di quelle che possono essere dinamiche non per forza produttive, dinamiche non per forza agevolate. è un bellissimo indice di valutazione di quelle che sono anche le dinamiche di fragilità che una famiglia può portarti, ma che non affronti dal punto di vista della patologia, ma che affronti dal punto di vista dove trovare la resilienza, la forza, l'energia, la possibilità per trovare strade positive. Io mi fermerei qui, perché è un'integrazione, ribadisco al modello che già Chiara ha presentato. sentiamo un po' quello che abbiamo da dirci nel dibattito insieme, perché vi interessano molto i ritorni. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie Claudio. Ho visto un applauso da parte di lei. Ma il dibattito credo che sia rimandato, che credo che sia... Abbiamo trasformato, diciamo, i dieci minuti che avevamo di discussione insieme in queste comunicazioni che si rispecchiavano e una risuonava nell'altra. Per cui tutto il lavoro che si può fare ora è quello di, come dire, provare a vedere nel concreto come, continuando con le collaborazioni, anche con i modelli di implementazione, che non possiamo dimenticare, che questa opportunità ci viene data in maniera forte dalla Baby Friendly Initiative, sia per l'ospedale che per la comunità, perché ci dà il contenitore all'interno del quale ci sono le premesse per poter fare un lavoro di questo tipo. Mi sembra di dire, l'ossatura sono i protocolli, il senso glielo danno gli operatori che stanno ad essere attenti alla relazione. E la competenza, quello che viene richiamato poi, riguarda trasversalmente tutto. Dobbiamo saperne studiare di più, perché saremo più saldi anche nella nostra capacità di ascoltare nel momento in cui saremo più competenti, perché le mamme ce l'hanno ricordato, cioè ci sono anche interventi inappropriati, per esempio di supplementazione quando non serve, per esempio quando tu dici Claudio le nostre guida anticipatoria devono essere fondate da una competenza sul neurosviluppo e non può essere sul sentito dire. E quindi insomma, questo ci richiama a un approfondimento culturale, quello che ci hanno raccontato tutti, Chiara ha anche, sono tutti elementi che vengono da profondo studio interesse di questa materia. Io devo chiudere, ho il mio compito di oggi, era quello di raccogliere un po' e rilanciare alcune cose, ma l'avete fatto egregiamente da soli e quindi c'è stato questo filo rosso che vi siete testimone, che vi siete passati l'uno con l'altro. Io vi ringrazio tantissimo, credo che questa prima occasione ci rafforzerà nell'idea di portare avanti all'interno dell'Officina Unicef altri momenti su altri passi, visto che li abbiamo connessi in qualche modo ai passi della Baby Friendly e come ci diceva Laura Baldassare, all'interno di un contesto in cui questi officini servono proprio da approfondimento, oltre che da diffusione del pensiero, sulle altre tematiche prioritarie dell'Unicef, all'interno delle quali siamo ben felici di poter contestualizzare questo tipo di riflessione, che continueremo e che continuiamo anche in altre sedi, visto che ci vediamo poi in molte altre occasioni, in istituto, il convegno dell'Associazione Culturale Pediatri, in mille altri momenti di questa nostra vita di comunità di pratica. Siamo una comunità di pratica, a servizio dei bambini, e l'Unicef ci dà il contenitore contesto veramente adeguato per poterlo fare. Vi ringrazio tantissimo a nome di tutti, mi è stato dato l'onere della chiusura dell'incontro, non so se dall'ufficio della sala del direttivo dell'Unicef vogliono mandare un seguito, per quel che mi riguarda chiudiamo qui la serata. Grazie, grazie ancora. Grazie, grazie Leonardo Speri, anche per lo stile della tua moderazione, senz'altro abbiamo già definito altri due incontri, come sapete, uno dedicato all'accompagnamento alla nascita, cure amiche e sostegno nel territorio, sempre per la moderità officina, un terzo accompagnamento in condizioni particolari, nelle emergenze, la nascita, preterne, dei bambini e bambini con bisogni speciali. Siamo qui anche con il consigliere Foggini, vi salutiamo, vi ringraziamo tutti e tutti, e quindi alla prossima officina. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a tutti e a tutti. Ciao. Grazie, ciao. A presto. Grazie. Grazie.